Buon pomeriggio, è un piacere e un onore aprire questa nuova stagione della Società Dantesca con la nostra edizione dei workshop dedicati alle opere di Dante sotto il nome e le opere seguite. Sono un po' emozionato perché la volta che la Società Dantesca organizza un evento di questa complessità indiretta, quindi abbiamo avuto naturalmente come ovvio una serie di problemi tecnici da risolvere, ma adesso pare che tutto sia a posto e quindi possiamo brillantemente iniziare questa nuova era della comunicazione della Società Dantesca. Speriamo di poter presto riprendere anche i nostri incontri in presenza nella nostra magnifica sala del palaggio dell'arte della lana, ma intanto è bello aprire questa nuova modalità di comunicazione che ci permette di avere insieme a noi tanti amici, tanti colleghi, tanti studiosi in altre parti del mondo che non potrebbero fisicamente partecipare ai nostri seminari fiorentini. Vi dicevo che siamo nell'ambito della serie degli incontri che vanno sotto il titolo L'Opere seguite, è un ciclo che è iniziato già un po' di anni fa con una serie di seminari dedicati alle opere minori di Dante. Questi seminari hanno dato dei frutti molto importanti e interessanti, tanto che abbiamo raccolto il primo volume, gli atti del primo volume che raccoglie gli interventi sulla vita nuova, sul fiore e sull'epistola tredicesimo. È stato pubblicato dalla Sismel, edizioni del Galluzzo di Firenze e quindi è già un frutto importante. Poi siamo andati avanti completando il percorso relativo alle opere cosiddette minori di Dante e questi ultimi tre anni che ci portano al centenario del ventuno naturalmente li abbiamo dedicati alla commedia dedicando a ciascuno delle tre cantiche una serie di due incontri, di due seminari. Uno all'Inferno che si è svolto l'anno scorso nel 2019, quest'anno abbiamo i due dedicati al Purgatorio e nel 21 avremo i due seminari dedicati al Paradiso. Entrambi i seminari, diciamo entrambi questi cicli, sono organizzati in due incontri. Un primo che va sotto il titolo complessivo di fonti, strutture, modelli e un secondo che invece va sotto il titolo di temi, episodi, personaggi. Oggi dunque iniziamo il nostro percorso relativo al Purgatorio. Questo per quanto riguarda l'incontro di oggi. Il Presidente della Società Dantesca italiana, Professor Marcello Cicuto, purtroppo non ha avuto la possibilità di essere con noi e quindi mi ha pregato di porgere il suo saluto presidenziale, insomma il pieno sostegno della Società Dantesca a questa iniziativa e il ringraziamento che faccio mio a tutto il personale amministrativo e tecnico della Società Dantesca che si è attivato in maniera straordinaria in queste settimane, in questi mesi così difficili per poter rendere possibile almeno alcune delle attività della Società Dantesca, in particolare per consentirci di riavviare comunque questa attività istituzionale di ricerca, di incontro, di comunicazione e di discussione scientifica nell'ambito dei nostri seminari. Dunque questo è il quadro introduttivo, come sempre abbiamo radunato cinque studiosi di altissimo livello che sono esperti in particolare, erano esperti delle opere minori nei cicli precedenti, sono esperti della Comedia, in particolare del Purgatorio per quanto riguarda invece questo nuovo ciclo. Sono Carlo Del Corno, Erminia Ardissino, Guglielmo Barucci, Sabrina Ferrara e Paolo Borsa. Il ringraziamento della Società Dantesca nei loro confronti è particolarmente caloroso perché anche loro si sono resi disponibili per realizzare questo evento con queste modalità un po' particolari che hanno richiesto un impegno speciale da parte di tutti. Dunque ancora un ringraziamento a tutti, un ringraziamento anche alle persone che sono collegate, che stanno seguendo e che seguiranno questo incontro e che potranno, se lo desiderano, intervenire al termine dell'incontro o ponendo delle domande, presentando delle osservazioni, avviando insomma una discussione per quello che riusciremo a fare come sempre nell'ambito dei nostri incontri seminariali. Dunque io a questo punto darei la parola al professor Carlo Del Corno che presento con particolare piacere, anche se come sempre brevemente è stato professore di letteratura italiana qui all'Università di Bologna dove insegno anch'io e quindi è stato uno dei miei maestri a cui sono particolarmente legati, un grandissimo esperto di Dante, della cultura e della letteratura medievale con particolare attenzione, ma non solo agli aspetti religiosi della letteratura medievale. Dunque il suo intervento introdurrà questo nostro percorso purgatoriale affrontando uno dei temi cruciali che definiscono l'identità e la natura stessa del purgatorio, cioè la penitenza. Il titolo del suo intervento è infatti Itinerari penitenziari nel purgatorio. Grazie professor Del Corno, c'è a lei la parola. Presidente della società dantesca e professor Ledda per avermi invitato a questo workshop e per avermi dato l'occasione di ripensare al purgatorio dantesco. Io leggerò un testo perché anche per stare nella misura dei tempi. Quando le anime sbarcate sul lido del purgatorio, una turba selvaggia del loco, chiede a Dante e a Virgilio la via per salire al monte, Virgilio risponde voi credete forse che siamo esperti d'esto loco, ma noi siamo peregrini come voi siete. Nessuno conosce quel luogo, tutti sono pellegrini, cioè forestieri, questo è unificato del termine che però si riferisce alla condizione umana in quanto pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, la patria vera. La peregrinazio sacra, un grandioso fenomeno della cultura medievale, trovava la propria definizione e le norme di applicazione nella dottrina della penitenza. La macerazione del corpo implicita nei disagi del viaggio, gli atteggiamenti virtuosi e benevoli verso i compagni fanno del pellegrinaggio una modalità eccellente della satisfazio della riparazione della colpa. Raimondo di Peñafort, eminente giurista e terzo maestro generale dei Domenicani, indica nella sua Somma de Penitencia due forme di satisfazio, l'elemosina e la mortificazione del corpo, a cominciare dalla afflizio peregrinazionis, dai flagelli addirittura del pellegrinaggio. Stefano di Borbone, un altro dominicano, nel suo grande trattato ad uso di chi deve predicare ai laici, intitolato De diversis materis predicabilibus, scritto a metà del 200, distingue tre vie della discreta satisfazio, della satisfazio fatta con acume, con distinzione. Il digiuno, la preghiera e il pellegrinaggio. Che il pellegrinaggio, la romeria, sia opera privilegiata per scontare la pena, si intende dopo aver ottenuto il perdono della colpa, mediante la contrizione e la confessione sacramentale, è confermato dal grande giubileo del 1300, suscitato da un movimento religioso irresistibile, prontamente inteso e disciplinato da Bonifacio VIII. I pellegrini che da ogni parte d'Europa visitano, pentiti e confessati, le basiliche romane, così scrive il cardinale Giacomo Stefaneschi nel decentesimo seo jubileo anno liber, il libro del giubileo. I pellegrini sono i nuovi agnelli diventati col dolore dei peccati, olocausto a Dio, rinnovati col rimuovere l'antica bruttura. Nell'incontro di Dante e Virgilio con il primo gruppo di anime dell'antipurgatorio, gli scomunicati simili a pecorelle timidette, si è costata una divergenza pur nella analogia della situazione. Gli spiriti eletti, così li chiama Virgilio, sono protesi alla beatitudine, pronte a evolare, a volar via, come si esprime ancora Stefano di Borbone nel trattato del purgatorio. La purificazione dell'attesa nell'antipurgatorio troverà compimento sulle cornici della montagna, dove saranno liberate dalla scorza, dallo scoglio che le appesantisce. Diverso è l'itinerario di Dante e lo rivela drammaticamente l'ombra che il suo corpo proietta sulla roccia. Egli è in carne ed ossa nel tempo della prova, tempo di misericordia per chi si pente, ma anche di tentazione e di incertezza. Allo stato della purità, purificazione, si torna a gradi o periscala, cioè per le virtudi, così dice Fra Giordano da Pisa nella prima delle sue prediche rivolte ai fiorentini in Santa Maria Novella nell'Epifania del 1303. Questo antichissimo e noto schema, la scala verso la perfezione, è trasformato dalla poesia di Dante nell'avventura di una scalata descritta con quella precisione e verità che non si riscontrano in alcun altro poeta né delle antiche né delle moderne letterature, come scrive uno dei lettori della commedia divisi nel 7-800 tra la passione dell'alpinismo e l'ammirazione per la poesia dantesca. Ho citato da un articolo intitolato Dante Alpinista del bollettino del CAI del 1887. Nel canto terzo e soprattutto nel canto quarto del Purgatorio, il monte che verso il ciel più alto si dislaga, assume in pieno il suo ruolo di protagonista. Un dinamico tema di fondo, come dice un commentatore Luigi Scorrano, che sostiene senza forzature la struttura allegorica della seconda cantica. La difficoltà dell'ascensione è suggerita da un accumulo di paragoni tra l'altissima montagna del Purgatorio e i diruppi dell'Appennino Ligure e Tosco Emiliano. Ai due camminatori la parete rocciosa si presenta inaccessibile, versi famosi, tra l'erice e turbia, la più diserta, la più rotta ruina in una scala. Servono ali, non gambe, per andare su. L'iperbole, qui solo accennata, che in Darno vi sariano le gambe pronte, è esplicita nel canto seguente, nel canto quarto, dove si descrive l'inizio dell'ascensione per una calla, una specie di screpolatura nella rupe. Bassi in San Leo e discendersi in Noli, montati su in Bismantova e in Cacume, connessi i piedi, ma qui convien con voli. Qui bisogna volare. Nel caso di Dante le ali ci sono, sono quelle allegoriche dello slancio verso la purificazione. Convien con voli, dico con l'ale snelle e con le piume del gran disio, un disio che fa tutt'uno, con l'ansia dell'alpinista, il desiderio d'andare in suso. Usando piedi e mani, lungo uno strettissimo canalino, Dante esce su un ripiano, l'orlo supremo dell'alta ripa. E guarda, sgomento e affascinato, la montagna che veramente si impone come protagonista e quasi interlocutore di Dante. Lo sommo era alto che vincea la vista e la costa superba più assai che da mezzo quadrante a centro lista. Insomma, una parete con una pendenza superiore a 45 gradi. Virgilio si comporta come una esperta guida, raccomandando al compagno di non perdere quota. Nessun tuo passo caggia e ricominciando subito a salire fino ad un altro terrazzino, un cinghio, una cengia, dove spera di incontrare alcuna scorta saggia. Dante è stanco, non si muove, io era lasso, teme di restare distaccato, ma poi facendosi forza e carpando a carponi lo segue tanto che il cinghio sotto i piedi mi fue. È la prima sosta. Lo sguardo si volge al basso, ai bassi liti, e poi verso l'alto, verso il sole. Il riposo è occasione di una lezione di astronomia che si dilata in una contemplazione dell'ordine cosmico. Torna però subito il pensiero dominante della montagna. Quanto avemo ad andar? chiede Dante. Virgilio incoraggia rivelando la legge della straordinaria ascensione. Ed è lì a me. Questa montagna è tale che sempre al cominciare di sotto è grave, e quando un più va su, e men fa male. La scalata sarà il termine quando ti parrà soave tanto che su andar ti fia leggero come a seconda giù andar per nave. Andar su sarà piacevole come andare in giù su una nave. L'allegoria dell'ascensione qui è pienamente manifestata. La sintonia tra il pellegrino e la montagna è la stessa che appartiene alle anime. La fatica si avverte soprattutto all'inizio. Lo insegnano, oltre a Seneca, a San Tommaso, lo insegnano soprattutto i predicatori di penitenza, usando proprio la metafora della nave, stretta agli estremi e larga al centro. A significare che la difficoltà della penitenza si allevia via via che la si pratica. Dante stesso, sembra alludere a questa allegoria diffusa, specie in Italia e in Francia, da non pochi sermoni sulla nave della penitenza. Basti qui citarne uno di Aldobrandino da Toscanella, un Domenicano attivo in Toscana alla fine del 200, in uno schermo sul Vangelo della tempesta sedata a Matteo, capitolo 8. Questo sermone ha come inizio, come tema, ascendente Iesu in Nabiculam, secutisunteum discipulieus. Come Cristo salì sulla navicella della croce per tornare al Padre, così gli imitatori di Cristo devono salire sulla navicella della penitenza. La forma della nave suggerisce poi molteplici considerazioni sulle modalità della penitenza. Navicula in extremitativus est arta, est retta, qui a multum penosa, sed in medio lata qui a magis ag magis cor penitentis dilatatur a diligendum deum. E la via dei buoni che si mettono nella penitenza si dilata perché va dal centro la circonferenza, cioè dalla terra que est centrum ad celum, quod est circonferentia. Quando Dante supera l'ultima scala che si affaccia al giardino dell'Eden, si sente ad ogni passo crescere le penne. Dunque Virgilio ha detto il vero e a ragione si congeda ricordando la sua abilità tecnica e la sua prontezza inventiva lungo l'ascesa che sembrava impossibile. Trattoto qui con ingegno e con arte, che Dante stesso, parlando a forese donati, loda la sua guida che con i suoi conforti lo ha tratto su, salendo e rigirando la montagna che drizza voi che il mondo fece torti. La montagna della purificazione che raddrizza, purifica quelli che sono stati stortati, distorti dal peccato, dal mondo. L'abilità tecnica della guida, che tra tanti giri aveva Dante, avvia Dante all'alto, corrisponde all'arte della penitenza praticata nelle sette cornici. Arte delle arti, ars artium potissima, come la definiva Tommaso d'Aquino in uno dei suoi sermoni. E come ripeteva di nuovo Giordano da Pisa, voglio ti mostrare che la penitenza passa tutte l'arti, perciò che la penitenza drizza tutte le opere e tutte le torte, quelle distorte, dirizza. L'arte della penitenza si manifesta a Dante non solo nei dialoghi con le anime e negli ammonimenti degli esempi adivizi e virtù proposti sulle balze del monte, con sempre nuove e sorprendenti forme, ma quell'arte assiste il pellegrino penitente in ogni suo passo. Dante, poeta, è straordinariamente attento a fondere intimamente senso letterale e senso allegorico. Un caso particolarmente efficace si può indicare nella descrizione dei movimenti compiuti sul bordo dell'ultima cornice, quella dei lussuriosi. Saliti uno innanzi altro per una scala che per artezza di salitor di Spaya, Stazio, che si è aggiunto alla compagnia sul girone quinto, quello degli avari e dei prodighi, pur senza interrompere il veloce andare, tiene una lezione sulla formazione delle ombre, dei corpi aerei. Ma prima che il discorso sia terminato, i camminanti si volgono ad altra cura, hanno un'altra preoccupazione. Infatti, un gran fuoco divampa dalla parete e il vento che soffia dal basso lo respinge lasciando uno stretto cammino dove si procede ad uno ad uno. Dante è combattuto da un duplice timore, del fuoco e del vuoto. E Virgilio stesso lo richiama, perché stia attento dove mette i piedi. Per questo loco si vuol tenere agli occhi stretto il freno, però che raro, potrebbe sì per poco. Non occorre insistere sul significato morale di questa cura. Gli occhi, così scriveva il Landino, gli occhi sono la finestra onde entra amore, ma dunque dobbiamo sempre rifrenare gli occhi se non vogliamo cadere in questa perturbazione della lussuria. Il canto ventiseiesimo del Purgatorio, ben noto per gli incontri con i poeti, inizia con lo schizzo della silhouette dei tre camminatori lungo il bordo periglioso della cornice, uno innanzi altro. Stazio è al centro, nella posizione più custodita, e Virgilio si preoccupa però di Dante, che ha con sé di quel d'Adamo, è l'unico in carne ed ossa. E spesso il buon maestro dice a mi, guarda, Giovi, io ti scaltro. Di nuovo l'attenzione è rivolta alla composizione del gruppo all'inizio del canto seguente. L'angelo della cornice settima ordina di entrare nel fuoco ed i porge orecchio alla voce di un altro angelo che di là, ma di là dal fuoco, li invita all'altopiano del paradiso terrestre recitando Venite, benedicti, patrismeis, un versetto su cui torneremo. Con grande fatica Virgilio induce Dante a seguirlo nella fiamma che tormenta e non consuma. Lo smuove solo il nome di Beatrice che lo attende di là dalla barriera di fuoco. Ma il suo comportamento è tutt'altro che affidabile, perciò egli passa in seconda posizione. Poi dentro al fuoco, Virgilio innanzi mi si mise, pregando Stazio che venisse retro, che pria per lunga strada ci divise. Scrive Anna Chiavacci nel suo commento Non possiamo impedirci di osservare che la disposizione è la stessa, perché uguale alla situazione, della cordata in montagna, dove la guida precede e il meno esperto sta al secondo posto. Un minimo dettaglio d'ordine tecnico suggerisce un importante contenuto allegorico. Dante che seguiva i due poeti antichi, forse reverente, come aveva notato Guinizelli. Ora supera Stazio, si avvicina a Virgilio e tra poco lo supererà, sarà lui la guida. Sarà proprio lui, il padre, la guida, Virgilio, a dichiarare che l'arbitro di Dante è libero, dritto e sano, pronto per un'esperienza che a lui, abitatore del limbo, è negata. Dante rimane tre notti in montagna, la prima nella Valletta dei Principi, l'ultima nell'improvvisato bivacco in roccia sulla scala che sale al giardino dell'Eden, quando i tre camminatori riposano fasciati, quinci e quindi d'alta grotta. Nella seconda notte, invece, Dante si muove sulla cornice degli accidiosi sognando. Tre notti e tre sogni in cui tre donne, Lucia, la femmina Balba, Lia, parlano o cantano. Episodi che di nove in nove canti annunciano gli snodi fondamentali dell'ascensione. Il primo sogno, in cui il poeta immagina di essere rapito verso il sole da un'aquila, si svolge parallelamente all'intervento, questo reale, di Santa Lucia, presenza, qui cito un famoso saggio di Raimondi, presenza incarnata della grazia e della giustizia divina. Come già nell'antefatto del poema, si era mossa per propiziare il viaggio di Dante nel al di là, così ora Lucia lo porta in braccio sopra l'insuperabile balzo e indica a Virgilio, del tutto disorientato, la porta del purgatorio, pur come un fesso che muro di parte, un'inclinatura quasi invisibile nella roccia. È necessario riflettere brevemente sulla cerimonia di passaggio al secondo regno. L'angelo che siede sulla soglia impugna una spada nuda, cioè sguainata, la parola di Dio, che penetra fino nell'intimo dell'animo, come si legge nella lettera agli ebrei, o come più comunemente si intende, la giustizia divina. Venite dunque ai nostri gradi innanzi, dice l'angelo ai due itineranti, ma l'invito riguarda in particolare Dante, in quanto rappresentante, in questo momento, di tutti i peccatori penitenti. L'angelo si comporta come un predicatore confessore, la sua veste di color cinerino, simile a terra che secca si cavi, nell'opinione di alcuni commentatori, sarebbe proprio l'abito dei frati minori. Un grigio tendente al marrone, chiaro, vicino alla tonalità neutra della lana grezza, non tinta. Torniamo a quel fra Giordano che predica in Santa Maria Novela negli anni che seguono di poco l'esilio di Dante. Chi vuole perdono di peccati, così in una predica del 1309, vada innanzi ai piedi del prete. Il perdono del peccato non si dà a Roma o a Compostella, ma dassi ai piedi del prete. Qui vi si dà il perdono. Aveva un grande affare a distinguere tra colpa e pena. La colpa si ottiene ai piedi del confessore e la pena durante il pellegrinaggio. Si sconta col pellegrinaggio. Dante, saliti tra i famosi gradini, si getta appunto ai piedi dell'angelo. «Divoto mi gittai ai santi piedi, misericordia chiesi, e che il mi aprisse, ma tre volte nel petto pria mi diedi». Quindi l'angelo incide sulla fronte del poeta le sette pi, che saranno via via cancellate, superando le cornici del monte. Non univoca, come è noto, è l'interpretazione allegorica dei tre gradini. Si pensa generalmente che Dante voglia indicare le tre parti della penitenza, che ho già ricordato, la contrizione, la confessione orale e la satisfazio, ma è una spiegazione che nei particolari resta problematica. Altri ritengono, secondo un'esegesi forse più convincente, che i tre gradini rappresentino la contrizione preceduta dall'esame di coscienza e seguita dall'ardore di carità che spinge alla confessione orale e alle opere riparatorie. Non occorre indugiare oltre su questa crux esegetica, basta rilevare che Dante in questo momento è l'everyman che compie esattamente i gesti del rito sacramentale per essere introdotto infine in uno spazio rituale, nella chiesa della penitenza, nella religione della montagna, come la definisce Stazio. Da questo momento in poi, la scalata, pur senza perdere l'aspetto di una emozionante e dura fatica, esprime un prevedibile sistema di colpe e di pene, incontri, dialoghi, esempio, tutto riguardo l'umanità intera. Tuttavia, Dante personaggio non è un semplice emblema dell'umanità. Avvicinandosi alla cima del monte e all'incontro con Beatrice, egli riprende il disegno di cammino spirituale delineato nella vita nuova, soprattutto nell'ultimo capitolo, sicché il desiderio di purificazione, la ricerca di un totale rinnovamento, fanno tutt'uno con l'atteso e desiderato incontro di Beatrice. Attraversata la barriera di fuoco che purifica e non distrugge, egli esce dallo spazio destinato alla satisfazio. Forse è dell'erte vie, forse è dell'arte, dalle ristrette. Non resta che sedersi o passeggiare in un luogo pianeggiante, in attesa che venian lieti di occhi belli, che lagrimando a te venirmi fanno, così dice Virgilio congedandosi dal figlio da Dante. Il luogo è memoria dell'innocenza originaria dell'umanità e allude nello stesso tempo alle cose ultime. Lo sfondo escatologico dell'incontro è già accennato dal versetto recitato dall'angelo che accoglie i tre visitatori quando escono dal fuoco dell'ultima cornice. Venite, beneditti, patrismei. Matteo 25. Le parole che Cristo, giudice ultimo, rivolgerà ai salvati. Lo scenario dell'ultimo giudizio, minuziosamente dettagliato da tanta pittura e dalla predicazione di avvento, soprattutto nella prima e nella seconda domenica di avvento, è riproposto nel punto in cui la biga trionfale di Beatrice si ferma di fronte al poeta di là dalle tè. Gli angeli che intonano il benedictus qui venit si levano senza indugio come i beati sorgeranno dai sepolchi al suono della tromba del giudizio, quali beati al novissimo bando sorgeranno presti, ognun di sua caverna, la revestita voce alleluando. Beatrice è la giovane fiorentina della vita nuova, ma anche la verità, la sapienza. Qualcuno ha detto la coscienza stessa del poeta che parla e si fa giudice di se stesso. Non è Cristo giudice, eppure ne assume alcune funzioni, alcuni atteggiamenti. Beatrice si rivolge subito a Dante non lietamente, ma superba, severa come madre che rimprovera il figlio. L'accusa, lo smascheramento del fedele è divenuto traditore, è enunciata dinanzi alla corte angelica che conosce tutti i suoi passi a cui nulla sfugge. La colpa di Dante, come in generale di tutti i peccatori, è l'ingratitudine, lo spreco dei doni elargiti da Dio, barattati con beni fallaci. Quando di carne a spirito era salita, così dice Beatrice, rivolgendosi agli angeli, fu io a lui men cara e men gradita, e volse i passi suoi per via non vera, immagini di ben, seguendo false. Tocca però agli angeli ricordare che Dante è ancora nel tempo della misericordia, gli angeli che cantano il salmo della speranza, in te domine speravi, dando inizio alla confessione di Dante, già annunciato in quel disgelo del cuore manifestato dall'abbondanza di sospiri e lacrime. Lo gel che emera intorno al cor ristretto, spirito e acqua fessi. Virgillo non è stato esatto. Al di là del muro di fuoco della settima cornice, nel giardino dell'Eden, vi è un altro limite che separa Dante da Beatrice, il fiume che toglie la memoria del peccato. Per incontrare veramente Beatrice non basta l'esperienza del pellegrinaggio faticoso su per le balze della montagna sacra. Sembra insufficiente perfino l'adempimento dei riti sacramentali della penitenza compiuti all'ingresso del purgatorio. Alto fato di Dio sarebbe rotto, dice Beatrice, se l'Ethè si passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento che lacrime spanda. Qui bisogna piangere. Scotto è la somma pagata dal pellegrino all'albergo dove ha pernottato. La parola di Beatrice è una spada che colpisce Dante di piatto e di punta, prima accusandolo come si è visto dinanzi agli angeli di piatto, poi perché confessi la verità di quell'accusa. È il drammatico inizio del canto trentunesimo. O tu che sei di là dal fiume sacro volgendo suo parlare a me per punta che pur per taglio mi era apparuto acro. Ricominciò seguendo senza punta. Di, di se questo è vero a tanta accusa tua confessione conviene essere congiunta. La spada è allegoria della parola che giudica come risulta da non pochi luoghi della Bibbia e in particolare nella visione iniziale dell'Apocalisse dove appare il figlio dell'uomo che ha in bocca una spada in ore eius gladius utraque parte acutus ex diebat il pace seius i cut sol eccetera. La lettura allegorica trovava illustrazione in miniature affreschi basti accennare al giudizio universale affrescato nella cripta del duomo di Anani definita la sestina del medioevo. Il Cristo giudice è rappresentato con la spada a doppio taglio che gli esce di bocca le chiavi della giustizia sulla mano di sinistra e le sette stelle nella destra eccetera. È questione di battuta dai canonisti ad esempio nel Decretum di Graziano o nella citata Summa di Raimondo di Peñafort se si possa ottenere il perdono dei peccati mediante la sola confezione e la risposta è negativa. Ci vuole la confessione orale. La richiesta di Beatrice ha un fondamento giuridico e mette bene in evidenza la necessità e la difficoltà straordinarie nel caso di Dante della manifestazione verbale della colpa. La penitenza descritta nelle sue componenti canoniche nell'allegoria dei tre gradivi qui è rappresentata come travaglio della coscienza di un ben individuato personaggio di un fabbro della parola che in questo momento paradossalmente non riesce ad articolare un compiuto discorso. Dante ammette la sua colpa ma il pentimento da principio è impuro compromesso da un'opaca emotività confusione paura insieme miste mi pincer un tal sì fuor della bocca al quale intender fuor mestier le viste si vede che muore le labbra ma non si intende quel che dice Beatrice lo guida nel processo di conversione verso un'autentica vergogna del proprio traviamento fino a quella erubescentia che era indicata come condizione necessaria della conversione radicale come insegnava per esempio Pietro Lombardo nelle sentenze Dante doveva puntare verso l'alto seguendo col pensiero il volo della donna invece ha lasciato che le sue ali le penne fossero aggravate in giuso da pargoletta o altra novità con sì breve uso Dante ascolta dapprima vergognoso come un fanciullo colto in fallo con gli occhi a terra ma quando Beatrice lo invita e gli ordina di alzare il volto di alzare la barba e di guardarla egli prova una diversa vergogna ben più consapevole e virile la vista dell'incomparabile bellezza di Beatrice che gli si mostra sotto il suo velo e oltre la ribera in un istante gli dà la misura delle sue errore e come altra volta egli perde i sensi tanta riconoscenza il cor mi mosse che io caddi vinto il pellegrinaggio di penitenza al suo culmine coincide con la conclusione della chet della ricerca del pellegrino d'amore grazie grazie professor del corno credo che non si potesse iniziare in modo migliore il nostro seminario con un'introduzione così ad ampio raggio che però mettesse al centro il concetto centrale della penitenza come quello che ha il senso stesso dell'esperienza del purgatorio una delle particolarità del purgatorio dantesco che lo rende diverso e speciale rispetto al purgatorio come si sta elaborando nella cultura religiosa medievale è sicuramente la presenza della preghiera e più latamente della liturgia e di questo ci parlerà il prossimo intervento che di un'altra grande studiosa esperta di Dante della letteratura religiosa non solo medievale ma anche cinque, seicentesca e novecentesca come Erminia Ardissino dell'Università di Torino autrice tra l'altro proprio di un importante volume cui raccoglie i suoi studi sulla presenza della preghiera e della liturgia con modalità diverse nelle diverse cantiche della commedia e con particolare attenzione al purgatorio proprio per questo le abbiamo chiesto di ritornare su questi temi su cui ha già dato dei contributi fondamentali cioè le strutture liturgiche del purgatorio ed è questo il titolo dell'intervento di Erminia Ardissino a cui do con grande piacere la parola Grazie Giuseppe grazie a chi è intervenuto come spettatore o come relatore effettivamente è una questione essenziale quella della struttura liturgica del purgatorio perché se la topografia della montagna purgatoriale determina l'immaginario del viaggio del pellegrino nel regno dei purganti la liturgia ne determina l'immaginario esistenziale che è funzionale al disegno teologico riguardante la comunità dei purganti questa comunità è disegnata da Dante come chiesa unita in sé e con il mondo dei viventi in un legame che viene esplicitato da simbolici gesti paroli riti a cui il viatore è chiamato ad assistere nel purgatorio vige l'unione manifestata in diversi modi e forme dal modo di cantare alle parole rispettose dai gesti agli incontri ben diversamente da come si comportano le anime nel mondo dei dannati che sono litigiose rivaleggianti in perenne opposizione e contrasto legate solo nella pena la comunità dei purganti unita alla comunità ancora militante dalla comune tensione verso la meta finale che consente la realizzazione piena di ciascun essere assiste all'inscenarsi diritti e azioni che riverberano un carattere di sacralità sull'esperienza del viato sul monte purgatoriale ma anche sulla storia terrena tale comunità prende parte con l'osservazione la meditazione il canto la preghiera a riti che incidono sul percorso ultraterreno che stanno compiendo generando quel disporsi verso l'incontro con la divinità che consentirà loro di raggiungere purificati l'obiettivo finale la visione di Dio e la partecipazione alla sua beatitudine ma che in diversi modi riguardano anche i viventi a cui è destinato il messaggio di salvezza implicito nel poema la liturgia è un'azione comunitaria che deriva dall'essere chiesa e ne è la conferma si può supporre che nell'esplicitarsi delle azioni liturgiche del purgatorio ma anche del paradiso dove tutto sembra una liturgia ideale Dante ci trasmetta un'idea di chiesa ovvero rifletta sull'essere chiesa nel tempo e sulla terra in fondo il purgatorio è ancora un regno terreno la liturgia purgatoriale è infatti indicata spesso come rivolta e svolta per coloro che dietro a noi restaro come si legge in purgatorio 11 e afferma l'unione con i purganti che chiedono le preghiere di suffragio perché savacci l'ordine e sante come si legge in purgatorio 6 dunque chiesa purgante e chiesa militante sono viste da Dante in unione per un cammino ancora in atto per ambe due e per ambe due avvengono rite e tappe che segnano un percorso ancora soggetto al tempo le rivelazioni del divino nel tempo sono l'essenza della dimensione liturgica la liturgia che si compone di una vasta gamma di cerimonia di preghiere di gesti di canti di parole trasfigura il reale dandogli un significato nel disegno trascendentale provvidenziale che reinterpreta la vita e la storia assegnando loro una più profonda ragione d'essere sublimandole alla luce della verità rivelata che si esplicita proprio attraverso quei riti la vita si incontra allora con un messaggio simbolico che ne rivela tutte le potenzialità per questo l'azione liturgica richiede una capacità di penetrare i misteri una lettura che va dal di là dell'evidente infatti spesso le azioni liturgiche del purgatorio si accompagnano ad inviti al lettore di penetrare a fondo nel fatto di aprire gli occhi di vedere la verità che giustifica l'evento e nella sua ragion d'essere possiamo considerare liturgie strutturanti la cantica sia i riti che si svolgono in diverse parti di essa all'ingresso al culmine nella prima notte sia le azioni ispirate alla realtà trascendentale che segnano in modo reiterato momenti particolari con l'intervento divino come succede con la recita delle beatitudini che accompagna il passaggio da una cordice all'altra beatitudini che propongono nell'insieme il completamento dell'essere secondo un'etica cristiana il primo rito che si realizza nel regno della purgazione avviene appena i pellegrini giungono nel luogo è il guardiano catone che indica a Virgilio quello che deve fare per predisporre il diator a proseguire il suo cammino e leggo da Purgatorio 1 94-96 va dunque e fa che tu costui ricinghe un giunco schietto e che li lavi il viso siccogne succidum e quindi stinghe due azioni dunque che anticipano il senso profondo del viaggio del pellegrino nel luogo il lavaggio del viso deve detergerlo dalle tracce infernali è un rito purificante che appare prossimo al rito battesimale ma non è tale Dante qui è liberato dal male che non è nel suo intimo potrà liberarsi invece dalla traccia del colpo originale che è suo come di ogni essere umano solo sulla montagna del Purgatorio quando tutto avrà appreso nel percorrere le Corvici ovvero quando ritornerà nell'Eden e riprenderà per sé la destinazione data all'essere umano con la sua creazione allora il battesimo indicato anche dalla nominazione segnerà la cancellazione della macchia originale lì acquisita per tutti dai progenitori Lara sarà pronta a rinnovare la sua natura qui ancora non è il momento egli deve solo lavarsi e purificarsi questo rito già stabilisce un alimento strutturante alla cantica ovvero la purificazione la seconda parte del rito purgatoriale consiste nel cingersi i fianchi di un giunco l'umile pianta strumento dell'azione mostra che il complemento della purificazione è la rigenerazione il giunco è simbolo dell'umiltà l'umiltà essenziale per la penitenza che è metaforizzata nelle percorse con cui il catone indica la pianta l'umiltà è necessaria virtù per riprenderla navigazioni per miglior acque dopo errori cadute peccati essa consente di riconoscere i propri sbagli e quindi di assecondare la richiesta di espiazione infatti la pianta si piega sulla marina e marina in atto remissivo ma il giunco è connotato anche di qualifiche che ne suggeriscono oltre che l'umiltà che è solo a correggere la superbia anche la rigenerazione perché rinasce appena viene strappato non solo la virtù non si consuma ma consente soprattutto una nuova vita il purgatorio è infatti non solo un regno di purgazione di espiazione ma anche di rigenerazione il viaggio per migliori acque si svolge come un'ascesa per il rinovellamento del viator che alla fine si sentirà rifatto sì come piante novelle rinovellata di novella fronda pure disposta a salire alle stelle la purificazione quindi non è fina a se stessa queste premesse si amplificano nel successivo rito purgatoriale che avviene alla fine della prima giornata nella valletta dei principi il rito che vi si svolge un rito comunitario di compieta è articolato in tre momenti il canto del salve regina quello del deluci sante terminum e l'azione della cacciata del serpente da parte degli angeli il salve regina è il canto di esilio condizione richiamata più volte nei suoi versetti exulis figlieve in acla acrimarum valle post hoc exilium contribuisce quindi alla significazione del luogo questa valle amena è comunque valle di esilio dal paradiso terrestre esilio che anticipa il tema dell'esilio di dante pronosticato da currado ma la spina proprio nel canto ottavo ma più precisamente ribadisce la condizione umana di esilio dall'eden destinato ai progenitori eden e valletta sono in relazione ma questa è solo la coppia dell'altro ed è ancora in grado di subire la tentazione ma anche di superarla mentre nell'eden si era svolto una volta per tutte con la sconfitta e la cacciata di Adamo e Dela nella valletta è dominante l'inquietudine indicata con il risveglio del visio con la nostalgia con l'ansia amorosa convogliata nel poeticissimo incipi del canto ottavo in questo clima di aspettazione di intenerimento di malinconia di sofferenza nella sera purgatoriale un'anima con le mani giunte canta l'imno appunto l'antifona te luci sante terminum che nella liturgia delle ore era cantato con pieta ovvero nell'ultimo momento di preghiera alla fine del giorno l'inno cantato interamente da tutte le anime le raccolte è perfettamente funzionale al luogo e al momento con esso si prega per allontanare quelle che sono le tentazioni morale quei somni e sfantasmata ricordati nei suoi versi quelle creazioni della mente e della memoria che turbano la notte che tentano nella notte l'antifona parla del pericolo appunto della tentazione la allontana ma non definitivamente infatti ogni sera si ripete lo sguardo dell'anima che canta rivolto verso l'oriente è attesa del sole e della grazia divina che allontanando le tenebre ne fuga fantasia in proprie tentazioni a guardia della valle dei suoi penitenti scendono a sera due angeli che allontaneranno la bisce che verrà di lì a poco nella successione del salveregina dell'antifona telucisante dell'arrivo della biscia che attualizza le paure per cui durante compieta si prega si svolge un rito a cui Dante presta particolare attenzione il poeta è attento nel descriverne precisamente le fasi sebbene lasci poi al lettore il compito di interpretarlo infatti il rito del canto ottavo non è come quello di purificazione suggerito da Catone per cui lavate le guance cintiti i fianchi il peregrino può procedere quello della valletta è un rito liturgico che si ripete ogni sera non ha efficacia sacramentale ma è preghiera memoria di eventi conferma nella fede rinforzo contro le tentazioni rinnovamento dell'impegno cristiano intervento della grazia insomma si tratta di una serie di gesti memorie fatti che si iscrivono nella sfera del sacro hanno significato in sé che contribuiscono alla salvezza fanno intervenire la grazia i penitenti assistono all'arrivo della biscia che viene cacciata dal solo muoversi delle ali degli angeli è evidente il legame con l'episodio edemico la notturna tenebra dell'anima l'assenza della grazia che guida ma anche delle guide terrene oltre che della luce che conduce il Dio come espresso nell'antifona consentono il ritorno del tentatore le anime che qui si purgano infatti sono state prive della virtù necessaria al governo gli angeli sono verdi nell'abito una testa bionda il volto luminosissimo inafferrabile alla luce dell'angelologia dantesca ma anche di testi a cui Dante può avere attinto e dell'iconografia e sapere comune sugli angeli all'epoca il verde dell'abito di questi angeli è stato ricondotto da Natascia Tonelli al colore dell'abito del Principati una delle gerarchie angeliche facendo uscire la critica dall'equivo congenerato dalla lettura del verde come abito della speranza l'individuazione del colore è un elemento importantissimo per spiegare l'evento liturgico che sta per aver luogo la sua valenza politica gli angeli vengono dal grembo di Maria quindi sono strettamente legati alle vicende dell'incarnazione e della salvezza e si pongono sulle opposte sponde della valle in modo da contenere e proteggere le anime gli angeli però non combattono la bicia non è necessario è già stata vita anche se tenta ancora l'umanità sulla terra la loro venuta è sufficiente perché sta punta il rito termina senza alcun cegno su cosa succeda poi nessun'altra notizia né degli angeli né della bicia né delle anime viene data neppure nel canto successivo ma Dante aveva prima dell'avvio di questo rito invitato il lettore ad agguttare gli occhi per trapassare il significato letterale dell'evento aguzza qui le torbe gli occhi al vero che il velo è ora del tanto sottile certo che il trapassare dentro è leggero si leggeva nel canto diciannovesimo scusate ottavo al verso diciannovo l'evento infatti ha significato proprio per il lettore perché è in funzione degli esseri umani sulla terra ancora tentati dall'interpretazione dell'allegoria si può trarre un utile ammaestramento questa tentazione non è un evento da vivere in sé ma un rito di riattualizzazione e di memoria dell'evento che ha segnato il luogo e la storia dell'umanità è una forma di punizione esemplare per le anime cui purganti governanti inadempienti e negligenti perché essendo incaricati di custodire l'umanità dal pericolo del nostro avversario essendo istituite da dio queste cariche per insegnare la via del ritorno alla beatitudine come indicato nel trattato della monarchia non vi hanno per negligenza provveduto l'errore delle guide terrene sono una forma di ingustizia un allontanarsi dal volere divino causando conseguenze infinite di confusione per i sultici e di perdita di funzioni importanti per la salvezza due sono gli angeli non uno o un'intera milizia angelica perché rappresentano uno la chiesa l'altro l'impero le due forze che dovrebbero insegnare a guidare l'essere umano alla beatitudine finale l'impero e chiesa sono stati istituiti da dio per guidare l'umanità ai propri figli alle due beatitudini quella terrena e quella celeste perché l'essere umano essendo a metà tra le cose corruttibili e le incorruttibili ha bisogno di due guide e può sperimentare due felicità non sarà un caso che l'episodio del canto ottavo sia strettamente legato all'invettiva politica del canto sesto ne sia una diretta conseguenza tutta la sequenza dal canto sesto all'ottavo è infatti unita anche dalla presenza di sordello il re non è solo il re ma anche responsabile di una missione e l'imperatore è colui che contribuisce a evitare i peccati del mondo infatti l'impero romano è nato per Dante dal fonte della pietà per rimediare il peccato originale come scrive nel trattato politico non per nulla la scena riguarda i principi negligenti che possono così vedere bene che si può combattere e vincere il male il paradiso terrestre immaginato da Dante sulla cima del monte è invece del tutto privo di tentazione perché è il luogo dove l'umana natura stava prima della caduta da cui è stata cacciata e dove è destinata a tornare per riacquistare la sua perfezione è un luogo di libertà dove l'essere umano può godere appieno del riconquistato libero arbitrio qui si svolge l'altro rito una complessa processione che occupa più canti dal ventinovesimo al trentatré con molte azioni e figure esegesi e ammonimenti dove ornamenti rituali e sacri sono descritti più intensamente che in ogni altra parte del poema l'importanza della processione simbolica che chiude la seconda cantica è dovuta certo al fatto che forma il contesto del ritorno di Beatrice e della finale purificazione di Dante che solo dopo tutti questi eventi può sentirsi pure disposto a salire alle stelle ma esso è anche l'evento liturgico più rilevante per complessità di riti e di significati l'unico veramente sacramentale in cui tutta la commedia qui Beatrice come abbiamo sentito anche dal professore del corno opera quale ministro che trasforma radicalmente la natura del pellegrino potendo cancellare in lui la memoria del peccato e il peccato e la sua memoria e la può ridargli così una mente limpida e netta una specie di tabula rasa che consentirà a Dante Dante di atto poeta di far tesoro della nuova materia del regno santo che sta per salire si tratta anche di un ritorno alla vocazione autentica del poeta da cui egli si era allontanato con la morte di Beatrice quasi a confermare che solo attraverso un confronto con l'eterno come avviene in un evento sacramentale l'individuo può rigenerarsi ritrovare il suo ruolo nel mondo dopo un smarrimento o un peccato un'erratta al luogo qui ed è essenziale per il poema la rifondazione della scrittura poetica di Dante e letto e chiamato ora ad essere scribadei ma oltre al lato che riguarda il diato la liturgia della processione interpreta la storia di tutti gli uomini alla luce esemplare di quella di Cristo si intrecciano infatti nella narrazione di questi ultimi canti sia la storia individuale di Dante riportata così platealmente alla ribalta al cospetto di tutti angeli uomini animali simbolici ninfie virtù e anche il lettore ovviamente sia la storia dell'umanità e della chiesa mostrata in tutta la sua violenza e brutalità per mezzo delle figure apocalittiche del canto 33 infatti ha luogo qui anche la rifigurazione della storia della chiesa e dell'umanità dopo la memoria della storia della salvezza che si attua con la processione nei successivi scenari simbolici quasi dei drammi sacri è configurato il disordine del presente al fine di mostrarne le possibili radicali modifiche che saranno annunciate con la profezia del 33esimo canto l'incontro dell'umano con il divino ancora nel tempo si irradia quindi su molteplici temi con tutta questa ricchezza e complessità di eventi si intreccia poi il duplice lavacro del pellegrino di Stato nei fiumi edemici davanti a Dante si configura infatti il disegno salvitico con il ritorno del carro all'albero del bene e del male che è anche il legno della croce nell'Eden infatti si proiettano le vicende umane o meglio della chiesa e dell'umanità in rapporto con il suo dio segnate da un perenne rammarico per la felicità perduta che lì ancora è manifestata dalla letizia di Matelda che canta a forma di Irlande Matelda figura che rappresenta appunto il possibile ritorno al bene perduto riguardagnato in misura persino superiore da Cristo con la sua morte è in questa condizione di rinato vigore sensitivo e di annichilamento memoriale che Dante diviene spettatore dell'evento liturgico una vera e propria sacra rappresentazione che in figura mostra la storia della salvezza poiché il punto centrale della storia umana è l'incarnazione attraverso la processione figurata la storia della chiesa fino al ritorno di Cristo in una serie di trasformazioni del carro che occupa tutto il canto trentaduesimo ora non è più Dante l'obiettivo della rappresentazione egli vi assiste con Beatrice e Statio ma essa si rivolge di nuovo a tutta l'umanità è una rivelazione apocalittica perciò profetica di cui Dante dovrà farsi l'attore per indicazione esplicita di Beatrice che gli dice appunto di notare di scrivere infatti la storia della chiesa drammatizzata in questo canto si chiude con la profezia del cinquecento e dieci e cinque messo di Dio che la salverè tutta la rificurazione è penetrata dal mistero della redenzione scrive Perti la proposito è precisamente il punto cruciale di tutta la storia il punto in cui la vicenda personale di Dante si innesta nella storia del mondo e il poeta facendosi si detta interpreta e riconosce il senso esemplare della sua personale esperienza e la inserisce nel paradigma storico dell'umanità a questi grandi importanti momenti del percorso purgatoriale a cui ovviamente non ho aggiunto l'episodio dell'ingresso nella porta perché è un atto penitenziale è un rito penitenziale quindi l'ho lasciato al professor Del Corno che infatti ne ha parlato ecco sì però a questi momenti si aggiungono liturgie più contenute non meno importanti perché sempre cooperante alla duplice finalità del re anzitutto le anime nel loro percorso pregano recitano le preghiere canoniche della chiesa i salmi penitenziali e non il padre nostro la news day per mezzanale sono i più importanti ho già avuto modo di discutere altrove delle preghiere quindi passiamo ai riti attraverso però queste parole esternate che costituiscono le preghiere le anime riaffermano il proprio credo con un'intensa partecipazione emotiva accresciuta dal coinvolgimento del gruppo cui l'individuo è legato da una comunione che si rinforza attraverso la ripetizione di parole fondanti la fede le anime del purgatorio partecipano alla chiesa militante in modo ideale unite in un solo intento attraverso il canto dove le paure e le speranze sono espresse con simboli familiari si sottolinea la coesione della chiesa nella lotta contro la tentazione ma anche si veicola la certezza di una trascendenza che è presente a queste liturgie comunitarie fanno eco i canti degli angeli e o di voci non riconosciute dal viato che accompagnano momenti salienti del suo viaggio come il canto del tedeo che si sente al passaggio dalla porta e all'ingresso nel purgatorio veri e propri anche senza sapere da dove provenga questo canto fa sentire la presenza e la partecipazione di una dimensione altra trascendente che riguarda comunque Dante che è coinvolta nell'esperienza di Dante così anche nel paradiso terrestre la confessione è partecipata con salmi cantati dagli angeli che hanno carattere rituare anche per l'uso di testi scritturali che accompagnano gli atti tanto loro una forte connotazione liputica nel momento in cui Beatrice inveisce contro Dante e suscita in lui vergogna gli angeli interpretano il pentimento e la contrazione che albergano nel cuore di Dante con un tocco di speranza nel perdono che lo inteneriscono e ancora voci angeliche accompagnano con il canto di un versetto assai simbolico del miserere l'immersione di Dante nell'etere di diversa natura e qui mi avvio veramente alla conclusione pochi minuti ovvero finalizzata la costruzione di una nuova etica di una prospettiva purificata e rinnovata dalle tendenze negative sono le beatitudini che si sentono al passaggio di Olin Cornice sono un elemento strutturale della cantica così come gli esempi indicati dalle anime e con loro a Dante di virtù contrarie al peccato e di vizi puliti che concorrono nell'insieme allo stesso scopo di efficare una nuova identità dei purganti che lì si rinnovano ma se gli esempi aveicolati in diversi modi come bassorilievi come immagini nella nebbia come voci non hanno carattere rituale la recita delle beatitudini invece sembra proprio costituirsi come una semplice ma decisiva liturgia un rito di passaggio in cui intervengono come in ogni liturgia elementi simbolici e la partecipazione del divino che accompagna le vicende umane in questo caso le vicende del pellegrino Dante esse segnano un evento nel percorso rigenerante del purgatorio si sentono ad ogni passaggio di cornice quindi sono sette riprendendo con qualche scarto i versetti di cui si compone il discorso della montagna riportato nel capitolo quinto del Vangelo di Matteo la citazione delle beatitudini accompagna dunque con un messaggio salvifico i passaggi indicati sia dalla cancellazione della pi ecco l'elemento simbolico sia dalla salita alla cornice successiva altro elemento simbolico sembra che nelle scelte di Dante si riflettano le letture di Agostino che faceva corrispondere a ogni beatitudine un dono dello Spirito Santo e di Tommaso d'Aquino che associava le beatitudine alle virtù nell'insieme le beatitudine appaiono come indicazione della riconquista di attitudini nuove che consentono di superare quelle virtù scusate di recuperare quelle virtù che i vizi avevano cancellato sono rinti di rigenerazione o rifondazione più che di purificazione e di espiazione l'angelo presiede pronunciando le parole rituali cancellando la P mentre i pellegrini si preparano a salire oltre conquistando così una nuova predisposizione etica e acquisendo le virtù corrispondenti alle parole di Cristo ovvero quell'atteggiamento dell'animo che lo rende conforme al messaggio evangelico grazie grazie davvero anche a Erminia Ardissino per questa bellissima relazione che ha mostrato l'importanza delle strutture liturgiche soprattutto della preghiera in particolare i momenti iniziale e conclusivo del percorso purgatoriale cioè il cosiddetto antipurgatorio in particolare la valletta e poi i canti dell'Eden ma ci ha mostrato anche la presenza strutturalmente decisiva della preghiera in associazione ai momenti penitenziali nelle cornici del purgatorio dove si crea davvero un dialogo complesso interessantissimo su cui magari ritorneremo anche in sede di discussione tra le preghiere pronunciate dalle anime la pena a cui esse sono sottoposte il sistema degli esempio del vizio e della virtù e le beatitudini che le hanno pronunciate al passaggio da una cornice all'altra è un sistema straordinariamente complesso e interessante su cui la professoressa Ardissino ci ha dato già alcune preziose indicazioni ma che forse potremo approfondire e sviluppare in sede di discussione visto che l'intervento si è concentrato soprattutto sui momenti iniziale e finale in cui le strutture liturgiche sono davvero più complesse più corpose più in evidenza un'altra delle strutture fondamentali del purgatorio dantesco cioè del racconto dantesco dell'esperienza di Dante personaggio nel purgatorio è quello dei sogni lo ha già anticipato il professor del corno descrivendo rapidamente la successione dei tre sogni che Dante riceve che Dante ha nell'aurora delle tre botti che trascorre nel purgatorio ma naturalmente ognuno di questi sogni richiede un'analisi approfondita per il suo dialogare con il contesto per il suo significato profondo e nessuno meglio di Guillermo Barucci che ha scritto un intero libro sui sogni del purgatorio può spiegarci in breve ma con profondità e con piena consapevolezza di tutti i problemi e significati che comportano questo percorso strutturale così decisivo e così innovativo nel purgatorio dantesco il suo intervento si intitola quindi semplicemente i sogni del purgatorio quindi con grande piacere ringraziandolo ancora per aver accettato il nostro invito che do la parola a Guillermo Barucci dell'Unità di Milano prego Guillermo grazie buongiorno a tutti naturalmente in primo luogo devo presentare la mia gratitudine alla società dantesca al presidente Marcello Ciccuto e naturalmente a Giuseppe Ledda con la speranza di non tradire la generosità delle sue parole la scelta di introdurre nel purgatorio tre sogni di un viaggiatore o il treno undano doveva essere nell'orizzonte dei primi lettori insieme singolare e scontata singolare perché tra le visioni dell'aldilà il sogno di un viaggiatore è un elemento di rottura certo il purgatorio con l'alternarsi di notte e giorno con la sovrapposizione di eterno e tempo umano fornisce l'occasione anche se per assurdo Dante avrebbe potuto sognare anche nelle notti infernali la presenza dei sogni è però anche scontata il sogno è infatti da Omero più ancora Virgilio un elemento costitutivo dell'epica e il sogno è anche un elemento ben presente nei testi sacri come comunicazione privilegiata col divino cosa che peraltro è anche dei sogni virgiliani e quindi è uno dei fulcri della commedia come poema sacro devo però subito porre una premessa il medioevo affronta i sogni al vaglio di una complessa e stratificata un'erocritica dalla matrice saldamento aristotelica poi declinata in modi profondamente diversi per epoca impostazione e metodologia non potrò naturalmente occuparmene veramente per ragioni di spazio ma è opportuno ricordare che questo sistema scientifico filosofico così ricco di concezioni e strumenti fornisce al poeta impegnato nella composizione di un sogno una tavoloccia una tavolozza eccezionale e io credo che più che a un sistema onirico coerente si debba pensare a una capacità artigianale di Dante di trascegliere volta per volta gli elementi sulla base dell'effetto che possono produrre sul letatore questo sistema di conoscenze oniriche trova infatti nel medioevo una declinazione fino ai livelli culturali più ingegni fino ai somniali a Daniels libri dei sogni di Daniele ossia rudimentali libri a chiave circolanti in molti ricerlazioni dei lemmari in cui i sogni sono elencati progetto e per ognuno viene fornita una sinteticissima interpretazione un testo rudimentale ovvio semplicisticamente meccanico ma che anche ha goduto di un'immensa fortuna pane europea esiste dunque un orizzonte d'atteso onirico anche nel lettore meno strutturato ma comunque fornito di codici di accesso al sogno sicché possiamo applicare anche ai sogni quanto vale per l'intera commedia come testo leggibile da più livelli di lettori e naturalmente il poeta mentre compone il sogno tiene conto di tutti i codici che verranno poi attivati per interpretarlo proverò poi a darne qualche esempio ma c'è un altro aspetto i somnelli ad Annelis sono conservati anche in numerosi monoscritti ad alta densità letteraria come emerge chiaramente da un bel volume recente di Valerio Caposo e questa compresenza è il segno della reciproca tra azione tra sogno e lettatura di come un lettore forte possedesse uno spettro ampio di ottrine sul sogno già così si comprende l'attenzione che Dante deve avere dedicato a calibrare l'intero congetto congatoriale sui sogni collocandoli alla giuntura di piani diversi quello numerologico su base 9 nei canti 9 19 e poi vedremo la discrasia e 27 e come tappi uniriche di un viaggio verso l'attrice quello topogradico rispetto alle tre sensibili portatoriali la chiusura dell'antipurgatorio al passaggio per una cornice centrale dalle sette della montagna all'uscita dall'ultima cornice quello teologico rispetto alla ripartizione delle tipologie d'amore che scandiscono l'aspetto a quest'unico secondo me fondamentale piani tutti però segnati da una progressione anzi se potrebbe dire che la funzione dei sogni sia proprio quella di comunicare all'interno sul piano altro il progresso del piatto abbiamo una progressione molto eponica che mi dicevo scantisce l'indicazione del viaggio ed è elemento per così di ricordare alle idee in questo punto segnano un passaggio di poco mi limito a ricordare i primissi libri di viaggio che chiaramente è un primo sogno che sospinge in Ea la croia a Greta un secondo nel paio di un'itenare da Greta a Gartacce un terzo da Gartacce all'Italia ma nell'Eneide al passaggio di nuovo si sovrappone anche una mutazione distante sul mio cuore mi limito a citare nella prima slide commento all'Eneide di Pernardo Sinteste riconosce in Greta prima di stesse con la spagliata del viaggio la natura corporea questa porta minimi temporali e mentre nell'Italia la vita vera finale e ultima la natura è venuta questa razionale da farlo portare a far dire questa scienza e i penari che i sogni spingono a Enea per tornare in Greta per l'Italia vengono interpretati come le scienze e non rispondono l'eroe a sfuggire magari armonità per accedere il nome di un'astruzione dell'Italia e similmente nel momento di fluggenza il mercurio che il sogno compare a Enea sui genitori e il quarto di anni verso l'Italia è il Deus Ingegui che allontana il giovane dalle mie amore sconfigna di quali era stato sconfigna e ovviamente anche i sogni di tante scandiscono stati in verso dell'evoluzione e dell'efficacia e dell'attività ma l'ograzione sia anche della tipologia di questo e questo si stringe a tornare alla caposana per l'erografica greca ossia la gerarchia dei sogni elaborata da Aristote e l'ipanica naturalia sulla parte di una origine chiarizza significante una gerarchia che poi rimodulata sull'ipanica e l'ipanica ricomenta per l'acidio e per l'erografico e per l'erografico sono scienze basta con gli spiagni in quali per l'erografico nella Bibbia ricordo spesso che è un'erografico che non era un'erografica filosofica e ciò nei Bibli ci sono chiaramente scanditi tra Antico e Nuovo Testamento quelli dell'Antico citati fossi avvolti in un involgro un tegumento di immagini apparentemente senza senso vacche magre che mangiano vacche grasse un pane di orzo che rotano da un colle e richiedono pertanto un decodificatore autorevole come il patriarca Giuseppe o Daniele e per quelli del Nuovo invece chiari espliciti piuttosto dei comandi prendi la donna il bambino e scappa in Egitto e dunque non richiedono intermediari ma progressione anche nel fatto che i sogni dell'Antico Testamento a parte rarissimi casi arrivano a pagani il faraone e il suo personale di palazzo Nabucodonosoro il Madianita e quelli del Nuovo a figure ovviamente della nuova dimensione cristiana quindi tipologie di sogno e di chiarezza che corrispondono anche a parallele tipologie di sognatori con una progressione di purezza e vicinanza tutti aspetti che naturalmente si riflettono su Dante e sognatore sempre più purificato nella sua scesa sempre più vicino a lui con chiarezza e divisione sempre più ed è questa in realtà la ragione profonda che spiega l'introduzione dei sogni purgatoriali il purgatorio è infatti naturalmente il luogo di un'evoluzione del personaggio i cui sogni sono il riflesso e il linguaggio prima di affrontare altre progressioni internaessoni è però da dire l'obbio ossia che i tre sogni hanno in comune il fatto di essere la reinterpretazione di un episodio potremmo dire religioso il ratto il ratto di ganimede il canto della sirena in cui il mito appare come ombra possiamo dire del vedo cristiano così come ad esempio l'età di saturno è un'ombra del paradiso terrestre anzi un sogno appannato del paradiso terrestre come per l'appunto viene dichiarato quando i poeti viaggiatori giungono finalmente sulla cima della montagna forse in parnaso estoloco sognaro che è peraltro un'altra evidente connessione tra letteratura e sogno entrambi come linguaggi qualificati fondati entrambi su immaginativa e fantasia entrambi espressioni di una dimensione altra i tre sogni purgatoriali rappresentano dunque un linguaggio sacro che esprime una dimensione sacra che procede dal paganesimo però al mondo biblico come per annuncio della sacra rappresentazione edemica e poi della proiezione nell'imparadiso cristiano ma questi episodi sacri sono anche rivissuti o riattualizzati da Dante che si proietta sul loro sfondo sostituendosi i veri protagonisti dell'episodio di Animede Ulisse Gioconte è un elemento fondamentale della centralità del personaggio Dante come nucleo unificante della narrazione ma anche come rappresentante dell'intera storia umana nel suo sviluppo parlavo prima di progressioni interne dei scopi i tre sogni in primo luogo rappresentano momenti diversi nell'atto del viaggiare il primo è la partenza con il distacco di Animede da terra una partenza unirica che non ha un arrivo impedito dall'interazione del sogno il secondo Ulisse è naturalmente il viaggio stesso meglio il pericolo la deviazione il rischio del naufragio il terzo con Giacobbi che giunge nell'ambiente pastorale del Pozzo di Carval dove gli andrà incontro Rachele del sogno in Giardattia il sogno nei tre sogni si addensa tutto l'immaginario del viaggio della commedia annunciato fin dal primo verso il camion di nostra vita come si rifletteste con il percorso verso il mondo ma lo fanno anche nella chiave di quell'amore che è la struttura profonda delle sette cornucce perché in forme diverse sono tutti in un'unica di amore il rapimento amoroso di Animede il canto della sirena delle famiglie di Azzemiro e il duplice matrimonio di Azzocco e con un'unica di Eranile la progressione si coglie anche guardando agli elementi formali che accomunano i tre sogni e appartengono alla tecnica del sogno raccontato e nella seconda slide provo a offrire un quadro sinottico perdonate il guazzabuglio di colori in primo luogo l'incipit comune nell'orachè elemento anaforico transonirico di un montaggio crozzamente riducibile alla formula nell'orachè più per i fresi che chiarisce che si tratta dell'alba più indicazione sull'interpretabilità dei sogni più inizio del sogno il primo elemento dicevo è una perifrasi che identifica l'ora dei sogni nell'alba il momento in cui secondo ogni tradizione i sogni non sono inquinati dai fumi della digestione e dunque sono veritieri giusto per limitarsi all'ana quando lo stomaco ha fatto la sua digestione lo cerebro è alleviato dalle fumosità di dello stomaco l'uomo dorme che è libero da pensieri o per citare lo stesso Dante in occasione del primo sogno l'ora in cui la mente nostra peregrina più dalla carne emenda pensier presa alle sue visioni quasi divine formulazione tra l'altro decisamente interessante perché contiene il seme verbale della peregrinazio mentis nonché l'idea nuovamente del viaggio ma anche una formulazione che nei sogni successivi muta profondamente esigenze di variazio certo eppure eppure nel secondo sogno alla mente divina alle sue visioni si sostituisce la menzione dei geomanti che in oriente osservano la figura della maggior fortuna di nuovo il nucleo è la capacità interpretativa però ricondotta questa volta un'attività umana e non associata ai sogni certo la geomanzia era pratica diffusa e non sono pochi lettori che riconoscono nel riferimento un valore positivo sulla forza profetica di questo sogno ora al di là del fatto che la formulazione dantesca non dà per assunta l'efficacia della geomanzia la sua stessa menzione mi sembra presentare qualche problematicità che si ripercuote sul sogno stesso anche prescindendo da quanto chiusava benvenuto né il credo geomantibus cum nih creda mastrologis o dalle polemiche sulla sua pratica da parte di indi e saraceni anche prescindendo da tutto ciò dicevo la condanna parigina del 1277 della geomanzia insieme a tutte le altre formi di negromanzia è solo l'esito ultimo di un percorso che comincia quanto meno con Isidoro e il suo elenco di pratiche frutto di patto demoniaco insomma la geomanzia sembra proiettare un'ombra cupa quella dell'usurpazio precognoscente di futura ed è netta la differenza ad esempio rispetto alla formula sull'interpretabilità dei sogni usati nel terzo il sonno che sovente anziché il fetto sia sale novelle ma anche quest'ultima formula è a sua volta profondamente diversa dalla mente quasi divina alle sue visioni del primo sogno in primo luogo in realtà precede la sequenza nell'orachè e ha così un valore più assoluto e netto sui sogni inoltre al di là di quel quasi che limitava l'impatto della formula del primo sogno è solo al termine della purificazione purgatoriale che viene esplicitamente enunciata la valenza anticipatoria anzi che il fatto sia dei sogni e non solo una loro significabilità infatti l'ottimo commentava il primo sogno osservando che all'alba gli sogni hanno più vera significazione e sono più significativi insomma solo il terzo sogno viene presentato come una visione diretta sul futuro sia pure trasposta in immagini e infatti il terzo sogno è una sorta di anticipazione velata di ciò che avverrà nell'Eden Matelda che raccoglie i fiori nell'Eden come faceva lìa nel sogno ma anche più adempiendo la figura del Giacobbe onirico l'incontro con Beatrice che procederà verso di lui all'interno della sacra rappresentazione come Rachele si era palesata a Giacobbe tra pastori e greci io però mi sono spostato direttamente sulla formula che esprime l'interpretabilità dei sogni torniamo alle perifrasi che indicano l'alba per provare a vedere come creino una costellazione di elementi che contribuiscono a semantizzare il sogno in quella del terzo sogno citerea che dell'Oriente raggia sul monte non solo salda la dimensione d'amore dei tre sogni ma preannuncia proprio perché idea dell'amore la riapparizione di Beatrice che ancora ricorda Rebecca incontrata da Giacobbe nella terra orientale vediamo quella del primo espressa attraverso la rondinella che canta i suoi tristi lai forse a memoria dei suoi primi guai certo il canto della rondine può essere interpretato allegoricamente da Ravano Mauro lo pseudo Ugo di San Vittore come il lamento dell'anima penitente e quindi un mito che ben si conforma all'inizio del percorso purgatoriale vero e proprio però il cupissimo mito di Progno e Filomela ha anche una forza impressiva propria come mito di Eros Abnorme nel gradiente d'amore ma anche un mito di Ratto il che ci permette di fare un'altra osservazione generale ossia che le chiavi di un sogno sono date anche da altri due elementi codificati ossia l'addormentamento e il risveglio che spostandoci la terza slide mito di rapimento è anche quello di Achille che si risveglia a Sciro usato da Dante per descrivere il proprio smarrimento al risveglio alla porta del colpatorio ma anche l'addormentamento era contestualizzato attraverso un mito quello di Aurore e Titone ed è un mito di amore lussurioso i commentatori antichi non mancano di rilevare il peso moralmente negativo di concubine amico e di allontanamento e vale per l'appunto come è già stato ricordato ancora ricordare che la notte è tutta nel segno della malinconia dell'addio in più quello di Titone è un mito di divinizzazione imperfetta un'eternità divina che è solo un eterno invecchiare così come divinizzazione non piena è quella di Ganimede accolto sull'olimbo e trasformazione non riuscita è anche quella di Achille in Don Asciro come interagiscono queste chiavi con il sogno di Dante di essere rapito da un'aquila e sollevato fino alla sfera del sole in cui il calore immaginato è tale da incendiarlo così interrompendo nel sonno certo Virgilio poi fornirà la chiave dei vari elementi ma non sta spiegando il sogno sta solo spiegando a Dante le ragioni del nuovo luogo in cui si è risvegliato certo è facile per il lettore proiettare gli episodi reali sugli elementi del sogno l'aquila è la trasposizione onirica di Lucia solleva Dante il volo verso l'alto lo è della scalata del monte l'addentrarsi nella sfera del sole lo è dello scaldarsi progressivo dell'aria un meccanismo fisiologico di formazione del sogno per trasposizione di eventi esterni già individuato da Aristotele il sogno un naturale e ancora Vincenzo di Beauvais da Slide ricorderà anzi che il sogno di essere nel fuoco è provocato dal calore esterno così come fisiologico è il meccanismo del risveglio riconosciuto ad esempio dall'ottimo dice adunque l'autore che immaginando solamente la ferventezza della sfera del fuoco tutto il corpo ne contrenia il lettore naturalmente coglie tutto ciò e così è indotto a collocare questo sogno in un livello basso della gerarchia filosofica aristotelica potremmo dire dei sogni come progressione di visione e quindi anche dell'evoluzione del personaggio sognante il primo sogno non anticipa il futuro il trasporto da parte di Lucie è già stato detto contemporaneo ma certo non è solo un esperiente narrativo per raccontarlo qual è il valore ulteriore da attribuirvi un'interpretazione non viene fornita e dunque le letture possono variare e il poco tempo non mi permette di soffermarmi ulteriormente certo è affascinante l'idea dell'aquila come grazia divina era già in Pietro di Dante o come la dimensione penitenziale dell'anima sulla scorta ad esempio del De proprietatibus rebus di Bartolomeo Angli o ancora l'aquila come simbolo imperiale tuttavia l'addensamento di miti pagani di eros negativo e mancata trasformazione divinizzazione scusatemi il bruciare di Dante dell'aquila come semele e anche come Icaro e Fetonte è la stessa metafora erotica del bruciare d'amore la brusca interruzione del sogno e basta il confronto con la serena e naturale conclusione del terzo sogno continuano a suscitarmi l'idea che il sogno deve essere visto come l'aspirazione a un viaggio transumano come percezione di una metamorfosi interna spinta dal desiderio non ancora però pronta al compimento non ancora purificata e infatti interrotta dal risveglio ed è interessante per l'appunto l'insistenza sul tema del volare e dell'ali che c'è stato ricordato precedentemente in comparazione invece all'esigenza di procedere per grado e quel fuoco immaginato che ancora brucia all'ingresso del purgatorio sarà invece superato immediatamente prima del terzo sogno dal fuoco d'amore dell'ultima cornice che arde ma non brucia e mi limito qui a ricordare nella slide un passo di un'omelia di glori san victore flam enim libidinis et amor carnis e osquas accendit consumit amor vera sapienza lume tabit set consumzionam non abit sulla base del sogno del rapimento dalla parte dell'aquila introduco però un ulteriore gradiente ossia il mutare del ruolo del dante sognato all'interno dei sogni nel primo dante indubbiamente alla figura centrale il centro gravitazionale di uno spazio definito dalle rotazioni dell'aquila e di un asse verticale monte cielo che passa attraverso di lui è l'oggetto del rapimento ne sono riportate le sensazioni le ipotesi persino in discorso diretto i pensieri nel secondo quella centralità psicologica corporea non c'è più ma il dante sognato resta destinatario della seduzione della sirena e a lui è rivolto il canto e l'azione io la mirava è interna al sogno tant'è che è quello sguardo a trasformare la femmina in sirena nel terzo il canto di Lia non è rivolto a Dante o almeno non viene esplicitato non vi è alcun tipo di interazione potremmo dire che Dante ormai è pura vista su quello che è già un umbriuffero prefazio del vero anzi che il fatto sia sa le novelle mi avvio la conclusione ho suggerito come i sogni debbano essere letti all'interno di un sistema dato da addormentamento descrizione dell'ora osservazione sull'interpretabilità risveglio in questi ultimi minuti vorrei fare qualche accenno almeno al secondo sogno per il quale già abbiamo parlato della formula sui geomalti Virgilio spiegherà l'incontro con la femmina sirena come un'allegoria delle tre ultimi cornici avarizze vola lussuria è difficile non accettare un'interpretazione fornita dal testo stesso certo c'è la pecorialità che si tratta dell'unico sogno per cui avviene e ancora Virgilio può essere un decodificatore di sogni certificato un Daniele Pagano proprio gli elementi di contestualizzazione del sogno mi suggeriscono che possa esserci un senso ulteriore sicuramente inviano al lettore i segnali di un sogno profondamente diverso dagli altri già la perifrasi dell'alba proietta un senso di negatività l'insistenza sul non può e di freddo elemento negativo ma la menzione di Saturno è di particolare rilievo ricordando ad esempio che nel Riccardiano 859 il seppogondo passo si è un elenco degli influssi dei pianeti sui sogni e per Saturno si dice che nel caso il sogno avvenga sotto Saturno il sognante vede demoni morti cose turpi e che suscitano timore che è quanto Dante vedrà nel sogno ed è solo uno degli aspetti che permettono di cogliere i tratti di quello che per Macrobio era il visum l'incubo come forma di autoindiano del dormiente come immaginazione distorta tra l'altro il fatto che nel visum si vedano forme distorte innaturali come la sirena è la terza citazione ma il visum nasceva nella condizione di dormivella il che ricorda il modo in cui Dante si addormenta a tratti tra risvegliarsi e riassupirsi il lento appannarsi del secondo sogno del secondo sonno in un'inquietudine instabile un nuovo pensiero dentro a mesi mese del qual più altri nacquere diversi e tanto d'uni in altro vaneggiai eccetera che è una definizione che da un lato si contrappone con forza invece alla metafora del ruminare che introduce il terzo sogno ma anche ricorda da presso anche terminologicamente uno dei tratti psicologici dell'accidia l'evagazio mentis per Tommaso nell'ultima slide per vagazio mentale dell'ocum in locum nel di accedia di Alcino ma dunque il sogno sotto questo aspetto il secondo sogno pare più legato proprio per i suoi meccanismi di formazione e per la sua conformazione alla cornice su cui si svolge quella della ciglia che a quelle successive e allora resta un dubbio per me risolto quell'Ulisse che secondo il vanto della sirena era stato già lettato da quel canto che ora tenta Dante aveva peccato di lussuria come dovremmo presupporre secondo le interpretazioni di Virgilio di Avarizia di Gola con l'Ulisse che si fece distogliere del suo cammin vago non ricorda invece piuttosto quella per vagazio mentis così associata all'accidia e che ha l'Ulissiaca curiositas come suo esito se per Agostino nelle confessioni esiste anche una lussuria della conoscenza la esperienti inoscendi quel libido che è forma veramente Ulissiaca non è logico pensare che la tentazione di un sapere devianto aspetta Beatrice prenda la forma di una figura femminile di un antagonista Beatrice e così giustificando il fatto che in questo sogno si abbia un anomalo slittamento di quel sogno rispetto al gradiente 9 dal canto 18 al 19 qui devo finire quasi tralasciando il terzo sogno perché piene sono tutte le carte e senz'altro la vostra pazienza ma spero almeno di aver fornito qualche elemento sulla forza segnica dei sogni grazie mille hai introdotto la complessità dell'interpretazione del testo dantesco naturalmente i sogni sono una una sede particolarmente tipica per questa complessità questa ambiguità dei significati e quindi questa necessità di interrogare il testo con strumenti molteplici e anche forse la pazienza di trovarci significati diversi che si muovono su diversi livelli di significazione naturalmente avremo modo di tornare nella discussione su alcune delle proposte interpretative che in alcuni casi sono diverse da quelle vulgate diverse da quelle a cui siamo abituati o di cui siamo magari convinti quindi sarà sicuramente interessante e tra l'altro la tua attenzione molto forte ai momenti diciamo della cornice onirica cioè il momento dell'addormentamento l'orario in cui il sogno si presenta al sognatore il momento del risveglio naturalmente costruiscono una intelaiatura una cornice appunto che interroga anche più ampiamente le interpretazioni dell'intera l'esperienza del poema raccontata nel poema con un sogno che naturalmente ha il problema di fare i conti con l'assenza di questo incorniciamento e dall'altra parte col dialogo anche con l'episodio che tu hai citato dell'ultimo della parte finale del sesto libro delle neri quindi hai davvero posto tanti problemi interessantissimi su alcuni dei quali magari le persone che ci stanno seguendo vorranno intervenire e sollecitarti oppure noi stessi avremo modo di discutere a questo punto se fossimo a Firenze nel palaggio dell'arte della lana faremo la consueta pausa caffè ma siccome ognuno è nelle proprie case può fare dunque liberamente la pausa caffè quando gli è più comodo noi andiamo avanti e procediamo il nostro lavoro col successivo intervento che va a toccare un altro dei nodi strutturali fondamentali non solo del purgatorio ma dell'intero poema tra tanti personaggi straordinariamente interessanti affascinanti che sono rimasti nella memoria collettiva il più affascinante il più importante di tutti è sicuramente lo stesso Dante nella sua complessa figura di personaggio protagonista viaggiatore l'aldilà e dall'altra parte invece di poeta di autore che è tornato a casa racconta e mette in versi questa sua esperienza su questo tema fondamentale della autorappresentazione di Dante che naturalmente non è prerogativa solo del poema ma con modalità diverse si trova sempre in modi molto innovativi e interessanti in tutte le opere dantesche ha scritto un libro importante un paio d'anni fa Sabrina Ferrara e quindi abbiamo chiesto proprio a lei di approfondire in particolare questo aspetto del Purgatorio Sabrina Ferrara che insegna all'Università di Turo è occupata oltre che di Dante e di altri autori medievali penso in particolare a Boccaccio e non solo quindi la ringrazio molto per essere qui con noi e annuncio il suo intervento che è appunto il titolo la autorappresentazione di Dante nel Purgatorio Sabrina Ferrara che insegna all'Università ed è tu in Francia prego Sabrina e grazie per essere con noi Grazie Giuseppe per questa presentazione e grazie per l'introduzione che introduce perfettamente appunto il tema e la doppia interrogazione con cui vorrei cominciare questa comunicazione e cioè cosa si intende per autorappresentazione quando si parla di Dante e soprattutto di quale Dante partendo dal presupposto ovvio che tutti gli scrittori quando scrivono si rappresentano o si autorappresentano consapevolmente o inconsapevolmente sorge interrogarsi si sorge naturale interrogarsi cosa significasse per Dante rappresentarsi in un poema in cui l'autore è allo stesso tempo narratore protagonista significa rappresentarsi come autore termine quanto mai anacronistico nel medioevo anche se questi ultimi anni numerosi studi sono stati realizzati costruirsi come e rappresentarsi come autoritas e cioè come colui che scrive qualcosa come garanzia di verità di credibilità come gli scrittori classici gli scrittori ecclesiastici o la sacra scrittura rappresentarsi come narratore come personaggio premetto va da sé che queste categorie sono poco convenienti all'esegesi medievale come attestano anche i commentatori gli antichi commentatori che non facevano non operavano distinzione tra gli attributi di autore e di personaggio sono utili però a noi lettori moderni senza anacronismi per poter indagare l'officina scrittoria di Dante poste così queste questioni prodromiche preciso subito che la mia riflessione non si orienterà se non in maniera liminare verso un presunto reale autobiografismo ma si cercherà di fornire un'immagine dell'intenzionale rappresentazione di se stesso che Dante affida al testo e che quindi nel testo in particolare nel purgatorio quindi ho operato all'inizio ho specificato la distinzione che Dante opera tra autore personaggio narratore una distinzione che è stata in ultimo ben specificata da Michelangelo Picone nel 2000 ma nel purgatorio in verità io ho osservato un processo direi inverso cioè Dante opera un costante avvicinamento tra se stesso personaggio e uomo e autore e sarà questa la linea interpretativa che si servirà in questo contributo ossia Dante non potrà essere l'autore che sarà alla fine del purgatorio se prima non avrà compiuto il proprio percorso come personaggio a fronte dell'inferno e del paradiso dove seppure con le opportune differenze i ruoli sono facilmente individuabili negli spazi testuali che che pertiene per esempio all'autore e al personaggio nel purgatorio si osservano invece zone testuali di interferenza molto forte è un procedimento interessante e soprattutto se lo si vede alla luce della compagine distintiva del regno mediano il regno che Dante sente il più prossimo tanto nella propria rappresentazione come personaggio come pellegrino come si vede sin dal canto primo del purgatorio e nell'incontro con Catone su cui ritorneremo tanto come autore e come annuncia appunto il secondo canto nell'incontro con Casella se a questi assunti costitutivi del purgatorio si addiziona il valore spirituale qual'emblema del luogo d'esilio stato già accennato da Erminia Vissino si comprendono ancora di più le ragioni per cui Dante si senta possa identificarsi senta vicino e possa identificarsi alle anime che vi hanno temporalmente sede e per queste ragioni che si è deciso di focalizzarsi sui pannelli i pannelli proprio comunicanti tra l'autore e il personaggio non tanto nell'intento di proporre nuovi modelli identitari o di insistere su quelli già noti di Gerenia David di Paolo che sono stati indagati quanto di cercare di legare tutti questi fili per ritrovare un fil rouge che percorre tutta la cantica come molte nozioni su Dante divenute nel corso della prassi esegetica familiari si corre il rischio a volte di darle troppo prescontate nel caso della straordinaria invenzione del purgatorio il volerlo definire nella sua innovazione strutturale e morale ha forse contribuito a mettere in sordine il progetto autoriale al di là di quei canti dove emerge precisamente maggiormente cioè canti dedicati all'amicizia e alla poesia passo sopra su queste innovazioni straordinarie sulla concezione di uno spazio etologico da parte di un poeta e non di un teologo all'espiazione dei peccati attraverso le forme penitenziali di cui vi ha magistralmente parlato il professore del corno alla presenza liturgica a cui nulla ho da aggiungere alla comunicazione di Erminia è anche vero che definire così concretamente da un punto di vista topografico e geografico per Dante corrisponde anche a un'altra imperiosa esigenza autoriale cioè quella di comporre un poema le cui tessere rendano veritiero il viaggio che il pellegrino compie ho già avuto occasione di soffermarmi sulle valenze implicite che l'ha in altrissimo altro scritto sulle valenze implicite che la concezione della montagna del purgatorio sottendeva per rappresentare e affermare la propria ortodossia religiosa fermo restando che prima di tutto la creazione del purgatorio resta un'opera essenzialmente poetica Dante comunque nel aderire diciamo così all'ortodossia religiosa voleva probabilmente anche come dire porre una distanza rispetto alle eventuali critiche che gli sarebbero potute fare nell'avere punito anche l'inferno papi e ecclesiastici la portata dell'affermazione della conformità alla dottrina cattolica vede dilatato il proprio significato se la si scrive anche nel contesto temporale in cui viene redatto il purgatorio non entro nelle diatribe di datazione delle opere dantesche sempre molto difficili e molto spinose sappiamo diciamo che orientativamente possiamo indicare come composizione del purgatorio il periodo arvigiano che come alcuni critici che lo si consideri intendo la si consideri la redazione del purgatorio per intero o a metà dell'impresa arvigiana comunque questi sono gli anni l'unica dato certo è la morte di Corso Donati il 6 ottobre 1308 che viene citata da Forese nel canto ventiquattresimo fatto sta che mi sembra che fa da sfondo al simbolismo della processione edemica anche la disillusione causata dall'interruzione del conclave il 24 luglio 1314 seguito alla morte di Clemente V da un punto di vista autoriale questi canti mi sembra che si avvicinino di più ma ci ritorneremo all'epistola undicesima ai cardinali italiani e comunque sia i due scritti mi pare che si colloquino piuttosto a quel momento di distacco definitivo della partecipazione di Dante alla vita attiva di cui è testimonianza l'epistola dodicesima all'amico Fiorentino preludio a questa risoluzione cioè di staccarsi dalla vita politica attiva è la doppia investitura poetica e profetica che il pellegrino e qui a mio avviso veramente sovrapposto all'autore ma ci ritornerò riceve da Virgilio nel 27esimo canto del purgatorio e da Beatrice nei canti 32 e 33 si ritornerà appunto ritorneremo su questi versi che costituiscono l'esito del doppio percorso purgatoriale dell'autore e del pellegrino che si era avviato nel canto primo con l'incontro con Catone e con le nozioni di libertà e di umiltà sono queste nozioni che costituiscono le chiavi di volta Hermine Ardisino l'ha accennato a proposito dell'umiltà costituiscono le chiavi di volta per poter comprendere l'universo del purgatorio di Dante sono già individuati e variamente interpretati dalle critiche mi limito a ricomporli in modo conciso sin dal canto primo Catone assorge a supremo esempio della libertà umana e incarna anche interpreta quella virtù dell'umiltà che viene inverata dal primo gesto che Virgilio che Dante compie sospinto da Virgilio cioè inginocchiarsi abbassando lo sguardo poco dopo sempre nel canto in questo primo canto purgatoriale Catone impartisce le istruzioni normative relative alla purificazione con queste due azioni Dante si rappresenta o meglio rappresenta il suo alter ego viator nella disposizione di introiettare l'attitudine umile suggerita da Virgilio e imposta da Catone che come vedremo successivamente non gli è veramente propria mentre ben più intima è la ricerca di libertà dello spirito dell'arbitrio ragione per la quale il pellegrino attraversa i terreni come Virgilio spiegherà a Catone è indispensabile sottolineare al di là di ciò che a tutti è noto che questo principio di libertà è fondamentale ed è affidato come si sa a Marco Lombardo nel canto scusate accanto al sedicesimo del purgatorio un pregnante figura autoriale che definisce la completa responsabilità degli uomini mentre è appunto la libertà che induce l'uomo a scegliere tra il bene e il male la vera libertà è quella che si piega al volere di Dio e soli ciechi la confondono con la sudditanza concetto peraltro già affermato forse poco prima della composizione di questo canto anche nell'epistola sesta ai fiorentini con lo simono iugum libertatis ecco quasi identico del liberis ogiacete del verso 80 appunto di questo canto questo canto è importante oltre che per la decisione di libertà anche per la portata che la parola poetica ha e a cui Dante dà valore in un canto c'è buio oscuro per il fumo Marco resta una figura invisibile ma anche secondo una valenza metaletteraria la parola assume quindi un valore ancora più forte la categoria di libertà è inoltre fortemente coordinata la nozione d'umiltà e al suo contrario la superbia Adamo il più perfetto degli uomini insieme al Cristo costituisce l'esempio più chiaro di questa contestura binaria è proprio fissato Adamo nel simbolo superbio di superbia quando dirà appunto a Dante non il gustare del legno ma il trapassare del legno all'antite si l'ha perduto in questo senso all'estremità opposta si trova invece l'atto del Cristo che si è umiliato per poter riscattare l'umanità e anche evidentemente la Vergine col celebre lo simoro umile e alta ecco mi vorrei informare un momento su questo simoro e su questa dinamica altezza umiltà e che trova la sua spiegazione proprio in questi canti i canti della superbia purgatoriali il purgatorio 11 nella cornice dei superbi o delisi da rubio agita al pellegrino provenzano salvani introducendo la storia in una in una serie di canti dedicati come vedremo all'arte e alla poesia l'episodio del superbo comandante dei ghibellini senesi a montaperti che si umilia nella pubblica piazza di Siena per poter riscattare un amico fatto prigioniero durante la battaglia del taglio crozzo illustra apodisticamente come una condizione di umiliazione possa trasformarsi in una occasione di umiltà nella figura di provenzano risalta sicuramente l'atto di libera scelta di umiliarsi ma anche la fermezza della decisione tanto più determinata si condusse a tremare per ogni vena che è contro è un'azione che provenzano si impone contro la sua stessa natura con le appropriate differenze contestuali e individuali e la medesima volontà di umiliazione che si ritroverà nel paradiso incarnato da San Francesco da Sisi Francesco e provenzano indicano a Dante l'insegnamento universale per il quale un atto che è considerato agli occhi degli uomini come umiliazione si trasforma invece in virtù e così l'umiliazione assunta con dolore da provenzano e ricercata da Francesco seguono una linea di progressione che però ritrova i suoi stessi codici proprio in questo canto purgatoriale e nella enigmatica conclusione predittiva con cui Oderisi annuncia a Dante la sua sorte di esiliato l'azione di questuare in provenzano e la medicità di Francesco inquadrano così uno dei volets della dimensione autobiografica e resistenziale di Dante autore che non ha mai cessato nella sua condizione di esiliato di cercare una sublimazione all'umiliazione che lui che ha subito affiora in questi canti in relazione alla tematica dell'umiliazione umiltà un altro concetto portante della commedia quello della giustizia di Dio imprescrutabile per gli uomini e incomprensibile spesso anche agli stessi ministri divini provenzano mosche del risvolto divino la sublimazione dell'umiltà del giudizio umano l'umiliazione ma per il concetto della giustizia anche in questo caso il purgatorio è fondamentale tra i vari esempi ne ho scelti due su cui questa fase orale passo rapidamente ma mi dedicherò più nella fase scritta Manfredi e Bonconte Manfredi è la prova visiva dell'incomprensibilità per gli uomini di una volontà che può salvare uno scomunicato è una lezione contro la pretesa umana di comprendere le decisioni e una marca di umiltà emerge nella condanna di Manfredi l'ardire degli uomini e in particolare degli uomini di chiesa colpevoli di non avere saputo leggere la faccia di Dio nella volontà di Dio e sottolinea così Manfredi il concetto della cattiva lettura è importante per noi perché per questa riflessione perché dall'altro lato si posizionano evidentemente i buoni lettori e chi sono questi buoni lettori in primi tra tutti in primi tra tutti Dante come mostra l'episodio di Bonconte non insisto sul volet dell'episodio di Bonconte secondo a quello del padre Guido entrambi esempi di come appunto il giudizio umano non corrisponde a quello divino quello che mi interessava dell'episodio in questo momento è l'affermazione che Bonconte fa rivolgendosi a Dante al verso 103 Bonconte gli dice io dirò il vero e tu lo ridi tra i vivi in cui appunto la sua parola la parola di Bonconte dà legittimità al pellegrino che appare già consustanziato all'autore in questo modo Dante collega la propria storia personale a una tematica collettiva di carattere storico o etiologico nella denuncia di Manfredi sui cattivi pastori emerge il contromodello che Dante propone di se stesso come invece buon lettore investito da Bonconte e emerge anche uno dei primi esempi di quel modellamento di Scribadei che sarà poi fondamentale per il seguito come autore nello stesso tempo dando così una spiegazione sulla giustizia divina diversa da quella umana crea anche una sublimazione del proprio stato di esiliato e modella in questo modo anche la figura di Scriva Omnis Dantis la sovrapposizione tra personaggio e autore nel purgatorio si condensa raramente come raramente accade nella cantica iniziale e nella cantica finale l'episodio di Provenzano che illustra il percorso come abbiamo detto e come vedremo ancora il percorso del personaggio in questa ricerca di umiltà rappresenta quindi il primo riquadro di un dittico che trova il secondo riquadro autoriale nel canto precedente cioè nel canto decimo nell'episodio di David qui l'atto di umiliazione allo sguardo dell'alter amico a cui si piega il re biblico è combinato semanticamente al suo status di poeta divino umile salvista sarà definito la continuità quindi tra la nozione di umiltà e il progetto autorale si esplicita nella figura di David che riassume in sé esemplarmente l'esercizio della prima cioè dell'umiltà con la peculiarità di essere il poeta dello spirito santo l'ambizione che era quella di Dante autore di essere riconosciuto come poeta sin dal quarto canto infernale si intreccia nel purgatorio o meglio si dichiara in modo più scoperto con quella di rappresentare se stesso come Vox Dei sull'esempio proprio di David come è stato mostrato senza che ci si aggiunga Giuseppe Ledda in vari saggi in uno particolarmente fondante del quale sono ampiamente debitrice ritorno soltanto su alcuni punti per poter continuare appunto la riflessione per poter aggiungere alla figura del canto dello spirito santo nel cielo di Giove dove David come si sa forma la pupilla dell'occhio dell'aquila in paradiso venti è necessario passare attraverso lo snodo della prima cornice purgatoriale quella dei superbi dove appunto Dante Pellegrino dove Dante Pellegrino si vede Davide rappresentato nel secondo basso rilievo degli esempi consercati all'umiltà qui accanto alla nobiltà del canto dei salmi a Davide viene riconosciuta l'umiltà che lo rende più omen che re quella stessa che nel canto seguente oderisi infonderà nel cuore di Dante smorzandone la superbia l'umiltà del re biblico con le parole sulla vanagloria di oderisi sono sicuramente i casti che per un Dante personaggio e autore colpevole di peccare lui stesso di superbia come confesserà a sappia nella cornice superiore in questo modo Davide rappresenta resterà il paradigma invariato fino alla fine del poema la purgatoriale costruzione di questo sé composito come nuovo umile salvista e il corollario coerente con il privilegio che sin dal canto secondo dell'inferno è stato concesso a Dante pellegrino di percorrere l'aldilà dopo Enea e Paolo ma io perché venirti o chi il concede io non Enea io non Paolo sono non rispondendo alla prima domanda Virgilio sembra richiamare Dante alla sua essenza non di eroe non di apostolo ma di se stesso di uomo come sarà poi chiarito solo nel paradiso terrestre da Beatrice dando così inoltre significato alle illusioni autoriali di questi primi canti infernali e in particolare all'orgoglio del bello stile in nome del quale verosimilmente è accolto tra i poeti del castello del limbo se questi primi versi infernali alludono all'obiettivo autoriale del viaggio che è quello di scrivere un poema che a questa altezza è soltanto ancora una commedia la proiezione di Dante autore poeta nel purgatorio si precisa invece in due momenti distinti e evolutivi il primo relativo alla sua passata esperienza di poeta d'amore come iniziatore del dolce stile nuovo il secondo corrispondente la sua ulteriore identità di poeta non solo ispirato ma scelto da Dio come araldo in terra della sua voce anche queste sono state delle proiezioni identitarie ampiamente esplorate la prima in correazione con la poesia involgare precedente e contemporanea e la seconda soprattutto per gli aspetti attinenti al profetismo dantesco non insisto neppure su queste in particolare Paolo Borsa dopo di me ve ne parlerà sicuramente meglio di me insisto soltanto sempre su alcuni punti che servono alla mia riflessione come è noto Dante definisce il posto che occupa nella storia della lirica italiana nei canti purgatoriali undicesimo se si accoglie l'ipotesi che si riferisca a se stesso come colui che supererà l'uno e l'altro guido nella gloria della lingua nel ventiquattresimo dove Bonaggiunta lo accoglie come colui che foretrasse le nove rime e nel ventiseiesimo nell'incontro con il padre Guido Quinizelli il balzo in avanti in questa storia della poesia volgare il balzo in avanti è compiuto davanti stesso con la poesia del Lode quello che mi interessa però è insistere sul termine che ha usato non che userà nella commedia ma che ha usato prima cioè quello di poeta anche qui nulla c'è da aggiungere a quello che ha scritto magistralmente Mirko Tavoli mi fermo soltanto per dire per ricordare che con un'operazione assolutamente innovativa Dante nella vita nuova e nel De vulgari eloquenzia aveva definito poeta i poeti volgari nel De vulgari eloquenzia distinguendo i poeti classici come era uso nel 200 e nel medioevo considerandoli come poeti regolati rispetto ai poeti non regolati in volgare nella commedia lasciamo perdere il convivio e la monarchia che sono un caso a parte nella commedia c'è una sorta di stasi di questa di sospensione di questa parabola evolutiva perché anche nel Furgatorio evidentemente il termine poeta fino al Furgatorio è riferito a poeti classici Omero Virgilio in particolare e nel Furgatorio anche a Stazio Stazio è incontrato nella quinta cornice come è stato già ricordato accompagna Dante per ben 13 canti ed è come nessun altro personaggio tranne naturalmente i tre protagonisti da quasi tutti i lettori del canto ventiduesimo del Furgatorio è stato notato come la semantica della presentazione di Stazio per te poeta fui risuoni quasi esattamente quella di Virgilio nel primo dell'Inferno poeta fui l'encomio è la riconoscenza che il poeta della Tebaide esprive però nei confronti di Virgilio riflettono seppure con termini diversi quelli espressi da Dante nell'incontro infernale come è facile rendersi conto dai versi che leggeremo se parte la prima slide che vi lascio leggere sulla quale non insisto Virgilio modello e fonte di ispirazione per entrambi i poeti costituisce il primo raccordo poetico che lega Dante a Stazio l'aggiunzione tra i due poeti però oltre che nel comune magistero di Virgilio sul piano autorale si concreta anche nel ruolo prodromico che Stazio ricopre per Dante Pellegrino nel percorso del Pellegrino Dante rappresenta infatti come è già stato definito da Anna Maria Chiavacci Leonardi il doppio di Dante primo perché è un pagano convertito e rappresenta forse l'esempio più perfetto di quella libertà di scelta e di adeguamento alla volontà di Dio dall'altro perché rappresenta il momento della salvezza Stazio mostra cioè a Dante quale sarà un momento che lui stesso vivrà che lui stesso vivrà una volta percorso il 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 percorso una volta percorso il purgatorio a me sembra che la ragione per cui sia proprio Stazio a mostrare al pellegrino questo passaggio non sia a nodino primo perché attraverso la propria conversione Stazio illustra più di qualsiasi altra anima qual è il valore della poesia e poi proprio per una questione personale appunto di illustrazione di percorso che la conversione di Stazio avvenga ad opera di Virgilio grazie ai famosi versi della quarta egloga nei quali tutto il medioevo credette di vedere la profezia della prossima venuta del Redentore aggiunge a mio avviso due tasselli alla rappresentazione che Dante autore sta componendo il primo dal luogo alla legittimità al passaggio di testimone tra Virgilio e il pellegrino la cui coincidenza con l'autore all'ingresso del paradiso terrestre non suscita dubbi e a valore in secondo luogo il progetto autoriale di un poema che ispirandosi alle neide inglobi la prospettiva cristiana predisponendo il passaggio così dalla commedia al paradisiaco poema sacro i versi della seconda slide lo illustrano noi ci fermeremo noi ci fermeremo soltanto sugli ultimi versi gli ultimi quattro versi l'esegesi comune attribuisce alle parole di Virgilio libero dritto e sano il tuo arbitrio il senso di libertà dalle passioni di affrancamento spirituale dalle scorie terrestri così quasi tutti i commentatori e molti commentatori antichi sarebbe piuttosto preferibile anche intenderle come il raggiungimento della medesima libertà d'arbitrio di cui parlava Marco Lombardo e questa obbedienza sovrana che solo può essere raggiunta grazie a un giudizio volto al bene e sano a cui si perviene con la conquista dell'umiltà se interpretate quindi la luce di queste coordinate cioè libertà e umiltà anche il verso successivo cioè il 142 per chi o te sovrate corona e nitro può acquistare una nuova luce il verso costituisce una delle numerose cruces interpretative dantesche considerata a partire dalla definizione di continuo una dittologia sinonimica il significato sarebbe da ritrovare in una generale e formula enfaticamente solenne in verità i commentatori più antichi distinguono nettamente i due termini attribuendo significati diversi e vari personalmente aderisco più all'interpretazione metaletteraria di conferimento poetico avanzato già da Jacomo della Lana anche se Jacomo leggeva il verso in una versione testuale diversa e ripreso poi da Michelangelo Picone mentre mi trovo d'accordo sulla prima parte della conclusione a cui giunge Picone e cioè che la mitra rappresenta il completamento apportato dal nuovo actor alla tradizione classica al nuovo actor romanzo scusate alla tecnè e alla sapienza del vecchio actor classico l'inderamento cioè del cristiano arrivo a un resito diverso per quanto riguarda la seconda parte cito la dittologia non sinonimica sulla quale il canto si chiude assumerà peraltro la funzione di rendere ufficiale il passaggio delle consegne dal maestro del bello stile al maestro del dolce stile nuovo sebbene nel quanto ventiquattresimo Dante rivendichi con orgoglio la paternità del dolce stile nuovo a quest'altezza il purgatorio mi sembra però assodato che Dante abbia già oltrepassato la fase sinodista e stia edificando quella di res sacra di scriba dei che si verbalizzerà poi nel paradiso tra l'altro ma questa è veramente una suggestione che vi propongo come una mia suggestione la rilettura di questi versi rievoca o almeno a me li ha rievocati i versi di Virgilio quando Enea arriva nei campi Elisi come vi ricordate una volta superata la regia di Edite a Enea vengono mostrati gli artisti Orfeo Museo gli eroi Ilio Assaracco Darbano i sacerdoti i vati i filosofi tutti i benefattori dell'umanità tutti costoro hanno le tempi incornate cinte da una benda candida simile a quelle con cui si cingevano i sacerdoti il che li rende degni di venerazione e di sacralità senza dare senza conferire loro evidentemente la funzione religiosa mi sono chiesta quindi quanto questa immagine abbia potuto influire nella potrapposizione della mitra in Dante traslando diciamo così il senso pagano di Virgilio nel senso nel mondo cristiano di Dante e cioè se questa incorporazione della mitra dia voglia dare questo è il senso che Dante vuole trasmettere vuole dare venerazione e sacralità alla funzione appunto di se stesso del poeti ma di se stesso come benefattore dell'umanità l'incoronazione di Dante da parte che l'incoronazione di Dante da parte del del parte di Virgilio sia poetica è confortata forse anche dal contesto in cui Virgilio sparisce che corrisponde all'apparizione di Beatrice se la parte della terza slide leggiamo i versi non è casuale che la triplicazione intensiva del nome di Virgilio sia seguita dalla formulazione di quello di Dante pronunciato per l'unica volta nel poema non rientro qui nella vicenda sull'eventuale altra volta in cui Dante è stato nominato da Adamo nel verso 104 di Purgatorio 26 dopo per scontato che qua è l'unica volta che Dante viene nominato anche che farsi identificare scusate con il proprio nome di Beatrice mi sembra che contestualmente si carichi di un significato non indifferente nella propria costruzione nella propria rappresentazione quasi a sancire l'ideale trasmissione da poeta a poeta e in modo analogo non mi sembra accidentale che questo passaggio di testimone poetico sia inserito in un contesto di rimprovero e di umiliazione di mortificazione del pellegrino da parte di Beatrice così l'investitura poetica di Virgilio e la conferma verbale di Beatrice attraverso anche l'umiliazione mi pare che costituiscano la sinopsi conclusiva della doppia rappresentazione del percorso purgatoriale del pellegrino e dell'autore inoltre la nomea che Virgilio aveva nel Medioevo come profeta consente la transizione tra l'annuncio di Cristo Venturo inconsapevole per quanto salvifica da parte del poeta mantovano e un racconto veridico altrettanto salvifico fondato su un viaggio che Dante autore vuol far credere effettivamente ha effettuato la slide quarto permette di vedere le due esortazioni di Beatrice la prima che ingiunge a Dante pellegrino di ricordare e narrare una scura profezia quello del 5105 la seconda invece lo eleva a eletto di Dio portavoce di una salvezza individuale queste sollecitazioni beatriciane ad assumere il ruolo di Vox dei hanno delle richiavano degli echi intertestuali dell'epistola undicesima ai cardinali dove il ruolo di Vox dove il ruolo di Vox dei viene congiunta con la giustificazione di Dante proprio per assumerlo se parte la slide 5 ve la faccio ve la lascio da leggere non ci esisto la leggiamo nella traduzione di Claudia di Claudia Villa mi avvio alla conclusione ho terminato l'autoimbossitura dell'epistola come è stato già ancora sottolineato di recente e una comporta una giustificazione negativa di una presunzione che Dante avrebbe potuto avere come Osa nessuna scusante invece nei versi purgatoriali del canto di Davide per una missione che ormai pienamente assunta mentre l'allusione a Osa viene accennata solo viene solo accennata mentre il canto è occupato principalmente appunto dalla umiltà di Davide la stessa dimensione collettiva dell'epistola è traslato in campo poetico nel rendio ai salmi che nel medioevo costituivano una trighiera corale il canto assume quindi una valenza civile di unità solidale a una prima rappresentazione quindi incipitaria che precede l'inizio del viaggio vero e proprio del pellegrino ancora peccatore non purificato ma oggetto di una particolare grazia si giunge qui a una tappa risolutiva del percorso del viato ormai redento quando viene rappresentata la transizione dall'Everiman al poeta Dante fa ancora un passo avanti non è Enea non è Paolo ma è il solo che percorre i tre regni purgatoriali i tre regni dell'aldilà compreso quindi il regno purgatoriale il cerchio si chiude così dal miserere di me di Dante personaggio di Inferno 1 si giunge al ricordo a Ruth ricordata come bisavola del cantor che per dolla del fallo dice miserere mei di paradiso 32 Dante poeta racchiude il suo poema entro il canto penitenziale del peccatore Dante e quello del peccatore Davide superate ormai le esperienze poetiche passate Dante si proietta ormai come solo poeta verso un canto divino e il processo si chiude così anche semanticamente il poeta che era stato il poeta volgare della vita nuova e del De Volgari diventa ora il cantor dello spirito santo il nuovo cantor dello spirito santo ti ringrazio grazie grazie davvero anche a Sabrina Ferrara per questa bella importante relazione che mostra come il purgatorio sia davvero una cantica centrale in questo percorso di autorappresentazione di Dante con tutta la complessità e la stratificazione della poesia dell'io e dei diversi livelli dell'autobiografismo che incrocia da una parte il viaggio penitenziale del protagonista dall'altra parte i riferimenti autobiografici dell'esule del politico del cittadino e dall'altra parte incrocia anche le riflessioni metaletterarie del poeta e proprio questo aspetto quello della riflessione sulla poesia che mette in scena un dialogo di Dante con le proprie opere precedenti da una parte ma anche con le opere di altri autori che incontra e con i quali dialoga è una delle dimensioni cruciali nell'intero poema ma nel purgatorio lo è in modo particolarmente insistito fin dalla sulla spiaggia si inizia a mettere in scena la riflessione sulla propria poesia e poi nell'ultima cornice si incontrano i poeti italiani e provenzali che sono tra i maestri di Dante e che stanno a purificare ad affinare il loro amore studioso nel fuoco dell'ultima cornice la cui importanza ci ha mostrato anche il professore Corno quindi davvero quello dell'autorappresentazione di Dante si incrocia con la rappresentazione di altri poeti l'incontro con altri poeti il dialogo con altri poeti la citazione di altri poeti questo percorso è fondamentale come dicevo nell'intero poema ma nel purgatorio in modo particolare e abbiamo chiesto dunque a Paolo Borsa che si è occupato di Dante ma si è occupato anche di poeti del 200 e in particolare dell'ultimo tra i poeti con i quali il dialogo del penultimo dei poeti con i quali Dante dialoga cioè Guido Guinizelli dell'ultima cornice dove si trova insieme a Arnao Daniel che costituisce proprio l'ultima anima delle cornice a dialogare con Dante ebbene abbiamo chiesto a Paolo Borsa di riflettere insieme a noi su questo percorso e naturalmente ci sono tanti anche qui gli episodi come segnalavo lui ha scelto di intitolare l'intervento da un luogo cruciale che è quello dei canti relativi alla cornice dei superbi mettendo proprio il titolo del suo intervento nel segno della gloria della lingua ma naturalmente collocandolo all'interno del percorso più ampio di questi incontri purgatoriali dunque Paolo Borsa che ora insegna da un anno insomma all'università di Friburgo in Svizzera e ci parlerà nel suo intervento della gloria della lingua i canti dei poeti nel purgatorio ringrazio anche Paolo e lì cedo con grande piacere la parola scusate ho dimenticato perché è lungo il nostro incontro e quindi ha da fiorare anche un po' di stanchezza ho dimenticato un elemento molto importante su cui scusa Paolo ti interrompo un attimo prima di iniziare ecco per facilitare il momento della discussione che come potete capire è un po' complesso da gestire vi chiediamo se già avete in mente di fare delle domande di fare degli interventi delle osservazioni di segnalarlo sulla chat di Youtube o su quella di Facebook in modo che i nostri tecnici possano contattare e indicarvi in modo magari mandandovi un link per poter intervenire in diretto oppure raccogliere la vostra domanda e girarla ai relatori ecco quindi con questa precisazione dunque vi invito abbiamo un po' di tempo al termine dell'intervento di Paolo Borsa per la discussione quindi insomma visto che siamo più di un centinaio di persone collegate in questo momento vi invito a fare liberamente la vostra la segnalazione del vostro desiderio di intervenire e sarete contattati ecco ora posso dare la parola a Paolo Borsa alla grone della lingua i canti dei poeti nel purgatorio grazie Paolo a te la parola grazie grazie a voi grazie per per l'invito e grazie per aver voluto associarmi a cotanto senno in questa in questo esperimento online della della dantesca ora il mio intervento come è stato già detto insiste sui sui canti dei poeti cioè sulla discussione con poeti o di poesia che Dante intrattiene nei canti purgatoriali e Sabrina Ferrara ha già menzionato i luoghi i canti i personaggi che sono poi interessati da questo discorso alla slide 1 e chiederei alla regia magari di tenere sotto le slide perché farò costante riferimento al testo per cercare di di abbreviare anche un po' il mio discorso nella prima slide vedete qua è una è la mappa del purgatorio presa dall'adattamento Dante's Divine Comedy di Simor Quast ho messo in rosso le cornici interessate al nostro discorso sono quella dei dei superbi poi più in alto quella dei golosi e quella dei lussuriosi i dialoghi già menzionati quelli con Derisi da Gubbio Miniatore nel canto undicesimo e non decimo errore mio nel come ho scritto nell'abstract sbagliando come trovate appunto nell'abstract poi Forese Donati e buon aggiunto Arbicciani tra i golosi nel canto ventitré e canto ventiquattresimo e poi Guido Guinezzelli Arnaut Daniel nel canto ventiseiesimo il percorso lungo i dialoghi con i poeti o nei passi in cui si discute di poesia perché Oderisi non è propriamente un poeta è la conseguenza dell'idea che Dante sia appunto personaggio poeta per citare un saggio giustamente celebre di Contini quindi un saggio del 1957 se non ricordo male parlare con poeti e parlare di poesia consente a Dante di riflettere sulla sua arte sulla sua lingua e gli consente anche di mettere in scena diciamo il superamento di stagioni letterarie altrui e proprie nella prospettiva poi del del poema sacro alla seconda slide del incontriamo ho messo due passaggi tratti dal canto undicesimo dal dialogo con appunto il miniatore Oderisi da Gubbio e sono anche i passi da cui come ha detto anche Giuseppe Ledda è tratto il titolo della comunicazione in questo canto portando in scena Oderisi e facendo nominare ad Oderisi personaggi che adesso vediamo Dante di fatto istituisce un parallelismo tra arte pittorica e arte poetica che è di fatto già tradizionale nella lirica italiana antica a partire da meravigliosamente di Giacomo Dalentini per fare ad esempio forse più celebre e peraltro al principio di una lunga trafila le due arti quindi diciamo pittorica e poetica sono accomunate dalla capacità di ritrarre in forma iconica l'una e in forma verbale l'altra la realtà il vero e lo fanno attraverso la mediazione della mente o meglio i concetti della mente cioè le rappresentazioni interiori le idee le rappresentazioni fantasmatiche degli oggetti la cui esattezza nella mente è il presupposto fondamentale per la correttezza e la precisione della rappresentazione che sia iconica o che sia verbale se scorriamo rapidamente i testi che non leggerò in nessun caso noteremo come in questi passaggi emergano dei temi che sono evidenziati dal lessico anzitutto il tema dell'eccellenza che trovate nel passaggio quello di di sinistra l'eccellenza da un lato è un'eccellenza che dà origine che è il presupposto per la gloria cioè la regalità diciamo dell'eccellenza si trovano disseminati nel passaggio termini come onore grido fama quindi tutti diciamo potrebbero essere quasi sinonimi di gloria ma che in realtà come già osservava Marigo rappresentano livelli differenti cioè l'onore rimanda all'omaggio il grido alla celebrità la fama forse l'elemento base del merito e via dicendo la discussione sulla eccellenza e sulla gloria e in particolare per i poeti poi la gloria della lingua da poi l'occasione a Dante per un discorso messo in bocca a Oderisi sulla fugacità e sulla vanità della fama e sulla rapidità con cui in tempi non rozzi cioè o non seguiti da un'età rozza la fama di fatto la fama che è dovuta all'eccellenza e non la fama usurpata viene meno in favore di altri cioè di altri personaggi che ottengono eccellenza e fama e istituisce dunque Oderisi un cerebrimo paragone Oderisi stesso è superato da Franco Bolognese come miniatore Cimabù è superato da Giotto e poi un guido è superato da un altro guido torneremo tra poco sulla questione dei due guidi molti sono stati nominati i più papabili quelli più citati negli saggi anche negli ultimi anni i guinzelli cavalcanti naturalmente ma anche guittone guido delle colonne ci torneremo tra poco qui non c'è però soltanto un discorso sulla gloria ma c'è di fatto un discorso in senso assai più ampio sulla lingua poetica se ci atteniamo agli ultimi due citati insomma i due guidi e il terzo che potrebbe cacciare dal nido gli altri tre la lingua poetica le sue potenzialità e i suoi limiti ed è un discorso che Dante ha cominciato non tanto prima nel poema di fatto insomma forse esprimendosi nella maniera magari forse non più chiara ma certamente più interessante a mio avviso nel prologo del canto trentaduesimo tra l'altro un prologo che è unito a questo a questo passaggio di purgatorio undicesimo dalla presenza di due vocaboli che per usare la terminologia del De Volgari potremmo definire puerilia nell'inferno abbiamo babbo e mamma e qua invece troviamo il pappa e il dindi di cui ci occupiamo tra poco si discute di fatto qui di competenza e di finezza linguistica come possesso e uso individuale quindi competenza e una finezza che sia capace di procacciare gloria quindi la regalità dell'eccellenza come esito più alto del merito che dà la fama anche se qui cambia ovviamente il pubblico rispetto al De Volgari eloquenza io ho l'impressione che e cambiano anche le finalità assolutamente dell'opera cambia l'orizzonte di riferimento però su questo tema c'è un legame con il De Volgari a mio avviso molto interessante che non guarda naturalmente alla questione del Volgari illustre come definita nel De Volgari eloquenza perché quello è ampiamente sorpassato ma riguarda l'idea di ciò che è illustre come ciò che dà la fama che rende dunque chiaro famoso e nobile per dirla anche con un riferimento alla consolazione filosofia di Boezio e qui si parla certamente di una lingua involgare in senso lato illustre cioè capace di dare la fama se passiamo alla slide terza io ho messo qua due passaggi con i quali mi ricollego ad una riflessione che sono stati proprio i colleghi di Parigi di recente a spingermi a fare su questo sul legame tra la fine dell'inferno e questi primi canti del purgatorio in questo passaggio del De Volgari primo libro troviamo dei termini di quel lessico che abbiamo visto poco fa in Volgare che sono termini simili che sono dello stesso campo semantico quindi onore onos poi fama la gloria e i gloriosi coloro che ottengono la gloria o la meritano e la dolcezza poi della gloria che Dante addirittura gli fa dimenticare o quantomeno gli fa mettere in secondo piano l'esilio stesso nel perseguire la gloria della lingua e se passiamo alla slide scusate sì alla slide quarta che invece ritorna purgatorio undicesimo noteremo come anche qui ritroviamo un ritornare sul tema della fama in questo caso mondando rumore poi voce voce si ricollega al grido di cui abbiamo letto prima e in tutti e due questi passi così come nel passo che vedremo dopo della slide successiva ho l'impressione che vi sia una questione strettamente collegata al tema della fama che è il problema del tempo cioè la gloria della lingua non si ottiene così d'emblè ma richiede del tempo e tempo che viene qui espresso chiaramente nel impurgatorio undici in questi versi con il riferimento al passaggio di mille anni la fama in realtà dice Ode Risi viene viene meno per quanto uno possa ottenerne viene meno e dunque al termine del processo la fama qua si dice di chi di un bambino oppure di uno che ha vissuto a lungo sarà nulla rispetto al tempo dell'eternità per dirla in modo molto semplice qua la mia impressione è che però non sia tutto così semplice cioè non si discuta semplicemente di morire giovani oppure vecchi ma di morire quando non si possiede niente più diciamo che il lessico fondamentale della propria lingua materna il pappa e il bindi la mamma il babbo oppure quando si è vissuto ormai per un tempo sufficientemente lungo per avere acquisito la cultura la tecnica necessaria a trasformare il proprio volgare in una lingua d'arte educata capace di esprimere nel nodo migliore anche i concetti più ardui e più più complessi se andiamo alla slide successiva la quinta vedremo come la tematica del il tema del tempo necessario ad acquisire una loquela in questo caso definita optima perché qua ci si riferiva nel De Vulgari alle conceziones optime ma se noi modificassimo quell'optimo in perfetto ad esempio in perfectus perfetta riferito alle concezioni ad esempio avremmo secondo me una buona corrispondenza cioè anche in questo caso qui abbiamo in questo passaggio un nesso che viene istituito tra la loquela cioè il parlare la lingua e la lingua poi di fatto poetica se rimaniamo alla lingua letteraria diciamo così e il rapporto tra loquela e concepciones cioè tra significanti e significati di fatto laddove con concepciones il riferimento va ai concetti a quelli che Dante chiama concetti ad esempio proprio all'inizio del canto trentaduesimo del paradiso dell'inferno scusate cioè le immagini mentali le idee che si traggono attraverso i sensi e che si conservano poi nel senso interno ora qua notiamo come per giungere ad una loquela che sia in grado di esprimere in senso perfetto delle concezioni diciamo delle immagini mentali allora usiamo questo termine che siano perfette che compiute che siano alte o basse in senso diciamo stilistico per convenienza questo non fa più conto naturalmente nella commedia ora per poterlo fare non basta la semplice natura o le qualità individuale ma servono cose che vengono indicate chiaramente in questo passaggio e poi anche in un passaggio che vedremo dopo scienzia ingenium in questo passaggio qua e poi se scorriamo alla slide successiva anche qua andando molto rapidamente troviamo la strenuitas ingenii la assiduitas artis e l'habitus scienziarum cioè di fatto la forza di ingegno la costante applicazione tecnica e il possesso di cultura ho usato la tradizione di Enrico Fensi e in fondo troviamo anche l'opposizione tra le oche e l'aquila che di fatto sono i due i due poli cioè le oche sono coloro che si pongono a usare una lingua letteraria a fare letteratura a fare poesia in volgare senza possedere né ingenium né scienzia né ars tecnica mentre le aquile sono quelle che al contrario hanno perfezionato in sommo grado tutte queste tre caratteristiche che sono caratteristiche interessanti e a mio avviso importanti proprio nel rapporto che c'è tra tempo e competenza capacità nell'uso sapienza nell'uso della lingua al fine di esprimere dei concetti appunto concetti nel senso che intendevo poco fa chi siano i due guidi è invece questione su cui dirò due parole adesso rapidamente io penso francamente ho avuto dubbi per tanti anni e per tanto tempo ho pensato che fossero Guittone e Guinizelli ero molto certo di questo sono sempre più convinto che i due guidi non possano che essere Guinizelli il primo e Cavalcanti il secondo i motivi secondo me sono abbastanza semplici anzitutto sono i due che sono citati con il nome Guido nella commedia il primo viene citato e possiamo prenderlo nella slide successiva la 7 in Inferno 10 dal padre Guido Guinizelli verrà citato come Guido Guinizelli poco più avanti quindi è ben nominato sono ben nominati sia l'uno che l'altro e poi è interessante a mio avviso il fatto che Guido Cavalcanti che non può essere collocato in nessuno dei tre regni perché non è ancora morto all'altezza del 1300 sia qualificato come possessore della altezza di ingegno che è proprio quell'altezza di ingegno che se Dante non la sta riferendo alle muse Dante poco prima nel canto secondo ha riferito a se stesso nel canto secondo Cavalcanti di fatto istituisce una sorta di paragone tra Dante e il figlio e i due sarebbero nella prospettiva tanto di Dante quanto di Cavalcanti sarebbero qualificati della medesima qualità appunto scusate il besticcio di ingegno appunto la medesima altezza di ingegno Dante però ha scelto una prospettiva diversa sdegnata invece da Guido Cavalcanti sul secondo Guido Guinizelli io credo ci siano pochi dubbi perché poi è il poeta già all'uso nel canto ventiquattresimo e poi citato e portato in scena nel canto ventiseiesimo c'è anche un altro aspetto a favore di Guido Cavalcanti secondo me che quindi non è vero che è il grande assente come a volte si legge nella commedia cioè è il primo citato è citato per nome viene verosimente citato anche qua e poi se lo vediamo tra poco nel canto ventiquattresimo visto che Dante viene menzionato per la canzone Donne che avete intelletto d'amore quella è la canzone più importante della vita nova e Dante attribuisce parecchia importanza al suo percorso vita nova al passaggio vita nova commedia questo è evidente e Guido per quel poeta citato nella vita nova come il primo amico dunque ho l'impressione che la candidatura di Guido sia abbia ben pochi insomma presenti poche problematiche a mio avviso appunto possiede alto ingegno che è proprio quello che viene richiesto alle aquile ai poeti aquile per poter attingere la gloria della lingua con il che adesso andrei spero di fare rapidamente chiudendo con sono tre slide c'è un po' di testo in queste tre slide ma cerco di andare un po' rapido adesso qua facendo un po' di elenchi diciamo così allora alla slide successiva alla slide 8 presento i due poeti che sono forese due personaggi poeti forese donati e buona giunta orbicciani che Dante incontra tra i golosi non mi soffermo su forese donati diciamo rapidamente che facendo riferimento anche sempre a continui insomma nell'incontro con forese Dante supera l'attenzione comica e fa forse ammenda di un atteggiamento di uno stile di vita io direi proprio si parla di vita appunto e di un grumo di interessi mondani che dovevano essere accomunare i due anche se magari su lati diversi in un periodo cruciale forse tra il 1293 e il 95 quindi ai tempi degli ordinamenti di giustizia e del loro temperamento e comunque prima dell'esilio quanto all'incontro con buona giunta allora il passo che trovate qua è un passo su cui non voglio soffermarmi tanto perché bisognerebbe veramente parlare per delle ore la bibliografia è sterminata io faccio notare così alcune cose su cui possiamo riflettere poi dopo magari allora anzitutto buona giunta riconosce Dante come il poeta delle nove rime un poeta caratterizzato dalla dolcezza quindi la caratteristica principale sarebbe la dolcezza e cita una canzone Donne che avete intelletto d'amore che è il testo più importante della vita nuova testo citato insieme nella commedia da Dante stesso insieme ad altre due canzoni che sono Amor che nella mente mi ragiona Purgatorio 2 e voi che intendendo il terzo scelmo avete Paradiso 8 sono tre canzoni significative che diciamo tre canzoni che si collocano sulla linea che Beatrice stessa traccia in Purgatorio 31 cioè quella linea che conduce o avrebbe dovuto condurre Dante a levarsi in suso di retro a lei che non era più del mondo senza gravare e guarda a casa ancora una volta le penne quindi no le penne di chi deve vibrarsi verso il cielo ma anche che può vibrarsi come l'aquila cioè il poeta uccello di cui abbiamo sentito parlare di cui sentiremo parlare ancora tra poco e menziona poi dei poeti il notaro Guittone se stesso tranne quello che tutti si aspettano cioè Guido Guinizelli che aveva tenzonato con buona giunta era una tenzone che conoscevano tutti e che è forse il testo più noto della poesia della lirica del 200 in un testo che era dedicato proprio al tema e alla ricerca dell'eccellenza cioè la critica di buona giunta era a Guinizelli era quella di aver voluto superare in tutti gli altri rimatori gli altri trovatori è una tenzone tra l'altro quella che fornisce ampio materiale verbale o di immagini proprio a questo passaggio a partire proprio dai poeti uccelli che sono coevocati dalle penne vostre quindi vuol dire che i poeti simili cioè quelli che c'è almeno un altro poeta con Dante qua almeno uno non per forza un gruppo ma le vostre penne secondo me fanno pensare quantomeno a due poeti uno potrebbe benissimo essere lo stesso Guinizelli non voglio dire che sia Cavalcante e poi le penne ma è l'immagine del nodo che potrebbe riferirsi al nodo che trattiene il falcone quindi ancora una volta l'uccello rapace da caccia guardando alla parte più complessa di questo passaggio mi limito a osservare qui che anche in questo passaggio il punto sta nel il problema proprio letteratura e contenuti sta nel nell'offrire una adeguata rappresentazione verbale adeguata e veritiera della della verità d'amore l'ispirazione d'amore che appunto un amore che non a caso spira cioè non solo ispira ma si manifesta con quel carattere pneumofantasmatico che rimanda ad una concezione medico-scientifica che è alla base proprio anche del tema delle concepzioni i concetti della mente di cui abbiamo parlato prima il lessico è interessante anche in questo caso perché si parla si fa riferimento ai signa e quindi il verbo significando quindi attribuire dei significati specifici alle parole ai signa utilizzati e poi si fa chiaramente riferimento anche alla comunicazione letteraria perché il dittatore e il dittare io credo che faccia io e non solo io ma credo che faccia chiaramente riferimento a un discorso verbale costruito con arte dal che ci avviamo all'ultimo episodio e alle considerazioni finali allora l'ultimo episodio che prende queste ultime due slide è quello dedicato a Guido Guinizelli una volta introdotta implicitamente la figura di Guinizelli nell'incontro con Buonaggiunta Guinizelli viene portato in scena viene portato in scena è definito madre non definito ma diciamo a lui sono associati è associato l'idea che sia una madre e poi viene definito egli stesso il padre di un gruppo anche in questo caso sono quantomeno direi tre i miei miglior sono almeno altri due oltre a Dante madre e padre come sarà Virgilio in Purgatorio 27 anche lì i termini sono i medesimi dicevo c'è un gruppo ci sono di nuovo le rime dolci la dolcezza qua c'è anche qualcosa di più non solo i dolci detti ma c'è anche leggiadre fa riferimento a rime che sono anche nobili cioè superbamente aristocratiche potremmo dire e poi compare di nuovo la specificazione che non dobbiamo dire molto all'uso moderno fa riferimento al volgare contemporaneo quindi dunque all'uso di una lingua naturale e naturalmente mutevole come tutte le altre lingue secondo la nuova prospettiva che Dante si istituisce nella commedia poi fino al colloquio con Adamo posto che alcune lingue come il latino restano lingue artificiali naturalmente ora se andiamo all'ultima Srae la decima credo che in quel passaggio che è quello finale poi del canto un po' tutti i fili orziti fin qua confluiscono in un unico passaggio il canto 26 dedicato alla celebrazione di Arnaut Daniel e di Guido Guinizelli portato qua in scena discute infatti del tema della fama di nuovo il pregio il grido come si può notare nel passaggio appunto di sinistra quindi nuovamente il tema della vera gloria della lingua basata sul vero a voce più che al vero rizzano le volti dunque la voce e il vero ed è un passaggio anche nel quale si insiste sui caratteri del vero cioè i caratteri con cui si misura la vera qualità della poesia o della letteratura anzi direi della letteratura perché si parla qua poi anche di prose di romanzi nel parlare materno caratteri che sono riconosciuti se scordiamo i versi poco prima della menzione di guittone in ragione e arte che ci riportano a mio avviso in maniera abbastanza chiara ai concetti di ingenium scienzia e ars che abbiamo trovato anche nel che abbiamo trovato nelle bulgarie eloquenzia c'è di nuovo la critica di guittone come era stata fatta nel canto ventiquattresimo ed è una critica anche in questo caso basata su arte e ragione il che a mio avviso rende ragione della critica che su guittone stesso è formalizzata su guittone stesso già nel divulgare eloquenzia dove di fatto la critica al poeta aretino è fatta in nome dell'ignoranza cioè se serve ragione e ha ragione arte per poetare a guittone sono riconosciute una intrinseca ignoranza di fatto che quindi è l'opposto di ragione di scienza e di ingenium anche almeno parzialmente e gli viene riconosciuta però anche l'incapacità a lui e ad altri di plasmare una lingua che sia in grado di rappresentare adeguatamente le immagini mentali i concetti e di non essere stato capace di farlo a due livelli che sono quello del lessico vocabolis nel passaggio delle volgari e a livello della sintassi cioè la construzio anche se poi la construzio non può essere non è esattamente la sintassi ma per semplificare diciamo così non a caso Arnaut Daniele è qui definito come il miglior fabbro del parlare materno formula che secondo me a questo punto è più eloquente di mille altre spiegazioni è fabbro è capace di plasmare il parlare materno cioè la lingua dell'uso dell'uso moderno ed è questa una formula che da un lato gli permette di lodare certamente Arnaut e da un lato anche gli permette ad anche che ha inteso nella commedia insistere sulla linea vita nova canzoni diciamo allegoriche commedia gli permette anche implicitamente di recuperare sul piano della tecnica applicata all'arte del significare appunto la sua esperienza successiva successiva alle tre canzoni citate nella commedia stessa e in particolare le petrose tra l'altro non è affatto un caso che proprio la sestina doppia sia un testo che appunto è il testo che Dante considera un po' la propria investitura cavalleresca la investitura di poeta è un testo eccezionale ed è un testo che è intessuto non solo di citazioni o menzioni o riferimenti ad Arnaut ma cosa che non è stata secondo me mai messa in rilievo è intessuta anche di riferimenti proprio a Guirizelli in quella sestina nella sestina doppia le due auctoritates maggiori poste in cima al purgatorio sembrano coesistere dunque per chiudere arte e ragione in volgare scienza ingenium e ars in latino nelle volgari e non a caso i due termini arte e ragione sono quelli che ritornano quando Virgilio incorona Dante proprio nel canto nel canto successivo dicendo di averlo condotto lì con ingegno e con con arte quindi non più la ragione ma l'ingegno che ci riporta comunque al devolgare quale che sia insomma la lingua scelta per il poema sacro il poeta ormai giunto alle soglie del paradiso ha tutte le risorse intellettuali etiche e tecniche per ascendere al paradiso appunto e restituire in forma verbale restituirne in forma verbale la memoria e chiuderei qui perché il tempo è scaduto grazie a Paolo Borsa per il suo bellissimo intervento che insomma affronta una serie ancora di punti interessantissimi importantissimi davvero i cinque interventi che abbiamo sentito questo pomeriggio hanno toccato molti dei temi più importanti e significativi per l'interpretazione non solo del purgatorio di alcuni passaggi in particolare su cui è stata data una lettura più approfondita ma si tratta di punti che hanno una serie di ricadute sull'interpretazione complessiva del poema e dell'intera opera di Dante per cui i temi posti sono veramente tantissimi forse talmente tanti che è difficile ora discutere uno per uno nel tempo che abbiamo che insomma è abbastanza ma non è così infinito allora io non so se nel frattempo è arrivata qualche domanda se dalla regia mi vogliono comunicare la presenza di eventuali domande perché io mi sono segnato insomma un po' di punti di osservazioni su cui magari se non ci sono ecco indicazioni diverse proverei a iniziare a sollecitare gli interlocutori ma forse ecco sento la mia domanda è in particolar modo per Paolo e anche Sabrina però effettivamente forse anche Giuseppe e gli altri potrebbero dare la loro opinione allora ero interessata a sapere che cosa pensaste sul fatto di non interpretare come sempre come tradizionalmente si è fatto l'incontro con i poeti di Dante e analizzando il canto 11 poi il canto 24 e il 26 ma provando anche interpretare l'incontro con Forese e Bonaggiunta e poi quello con Guinizelli dei canti 24 e 26 con l'incontro con Stazio quindi sempre un poeta però appartenente alla tradizione classica e non a quella volgare che viene incontrato appunto in Purgatorio 21 e poi accompagna Dante fino al Paradiso Terrestre faccio questa domanda perché Dante definisce e fa definire a Stazio il suo stile come dolce che è anche l'aggettivo principale della maniera moderna e inaugurata da Guinizelli e portata avanti da Dante e da altri poeti inoltre controllando il passo delle satire di Giovenale da cui viene questa definizione di dolce e pestazio mi sono accorta che il tema è proprio quello della gloria poetica cioè quello che viene affrontato in Purgatorio 11 contrariamente a quello che dice Giovenale che la dolcezza non si accompagna alla gloria invece Stazio ma anche Dante cioè sia lo Stazio di Dante che dice che è stato sulla terra col nome che è più dura e più onora appunto quello di Poeta sia lo stesso Dante si conquistano una certa immortalità poetica quindi non lo so ho fatto queste riflessioni comunque che do a Paolo in primis che cosa pensi di poter tentare anche un'interpretazione comune dell'incontro con i poeti volgari e con il poeta classico Stazio grazie sì grazie mi spiace ma la prima parte proprio non l'avevamo sentita e quindi non avevo capito la domanda sono no no sono perfettamente d'accordo qui ho scelto di proseguire sui sui poeti volgari cioè di lavorare solo su questi perché il tempo a disposizione era poco e già ho dovuto correre moltissimo ho anche saltato una parte che volevo leggere all'inizio dicendo tralascerò Stazio e anche Virgilio se non un passaggio finale del canto 27 cioè la questione era proprio relativa a ingegno e arte cioè avrei voluto arrivare un po' lì insomma ho l'impressione che il che è giunto in cima al purgatorio e apprestandosi a passare al paradiso con tutte le altre discussioni che ci saranno e che dovrà affrontare relativa alla lingua al linguaggio poetico discussioni anche implicite in cui la questione è implicita beh Dante si predisponga a superare anche il problema della dicotomia tra tra volgare e latino il fatto che appunto Virgilio in coroni dicendo che l'ha condotto fin lì con ingegno e arte l'avrà fatto forse anche con la sua opera visto che il riferimento alla sua opera era precedente e l'incontro con Stazio non può assolutamente essere trascurato perché insomma Stazio è presente tutto il tempo e sta lì per ragioni che non sono semplicemente quella di fare di Virgilio un un cripto cristiano o quantomeno un profeta inconsapevole dunque sì sono assolutamente d'accordo e appunto il tema poi della gloria della dulcedo è anche latino ritorna in latino proprio anche nel De Vulgari ed è cosa poi questo è tema su cui avevamo già anche un po' lei l'ha così in passato scambiato due parole sono sono perfettamente d'accordo quindi penso che andrà andrà affrontato nell'ottica anche del rapporto con il latino alla luce sia di Purgatorio 27 sia poi dei canti di Cacciaguida delle parole di Adamo in Paradiso e poi di quanto viene detto al termine del canto 33 del Paradiso appunto la gloria di Dio poi in qualche modo si risolve in un'implicita gloria della lingua quale che sia la lingua utilizzata perché il senso è ritrarre concetti in con strumenti verbali ecco grazie per il contributo bene prendo un attimo la parola io se mi si sente perché c'è un'altra domanda in arrivo ma appunto adesso sta per arrivare ancora no quindi io tornerei un attimo visto che stiamo battendo questo ferro finché è caldo poi c'è magari ci spostiamo anche sui primi interventi perché così io non darei per scontato e quindi cerco un po' di fare anche un intervento da discussione non solo una domanda non darei così per scontata questa lettura che da Giacomo Della Lana a Michelangelo Piccone ai nostri amici di oggi Paolo Borsa e Sabrina Ferrara è stata data per scontata cioè di una lettura meta letteraria dell'investitura di Virgilio perché da un punto di vista letterale questa investitura non ha minimamente questo senso ma ha esclusivamente il senso morale che riguarda il personaggio il protagonista il pellegrino che ha sperimentato la conoscenza del male e dell'inferno ha sperimentato la conoscenza del peccato e del vizio purificato nel purgatorio e quindi a dire di Virgilio ha raddrizzato ha purificato ha liberato il suo arbitrio quindi diciamo è un Dante che figura esclusivamente morale nella dimensione del discorso di Virgilio certo sono perfettamente consapevole che i termini corono e mitrio si prestano a letture più complesse però ecco io direi che mettere così in primo piano e dare per scontato questa dimensione metaletterale letteraria sia anche un po' fa importo a Dante che quando vuole parlare di poesia e fare degli interventi di poesia lo fa esplicitamente l'ha fatto incontrando i poeti citando le proprie canzoni lo farà nel paese terrestre quando Beatrice gli darà le investiture poetico-profetiche in modo esplicito quel che vedi fa che tu scrive sono dei momenti molto espliciti quelli relativi al percorso metaletterario allora dare questa lettura metaletteraria anche con Virgilio incontro con Stazio è stato ricordato e tutto reso estremamente chiaro ed evidente quindi dare una lettura di tipo metaletterario e darla così per scontata mi sembra un pochino forte pur restando consapevole che corono e mitrio una parte ingegno e arte dall'altra si prestano anche a questa lettura ma insomma non la dare per scontata ve la butto lì ecco se volete naturalmente replicare sia Paolo Borsa sia Sabina Ferrara che anche lei ha così citato questa lettura credo che potrebbe essere interessante anche per discutere un pochino sia pure a distanza non so o Paolo Borsa o Sabina Ferrara volete Paolo tu o io vabbè rispondo io la comincio io sì non era non è scontata è una delle interpretazioni che vengono date su corona e mitria ne sono state date talmente tante nei decenni nei centinaia di anni di di esegesi dantesca l'una non esclude l'altra hai ragione tu Giuseppe quando dici che è una liberazione dal peccato che riguarda il pellegrino ma la mia riflessione andava proprio nel senso di una identificazione del pellegrino con l'autore nel purgatorio e quindi anche a questo livello secondo me c'è questa identificazione io ce la vedo personalmente ce la vedo forse non è così scontata non è così automatica però Virgilio resta fondamentalmente un poeta per Dante morale la guida morale come vuoi è vero però resta fondamentalmente il suo maestro quindi forse la si potrebbe sfumare non darla come come scontata come dici tu ma io a me convince ecco Paolo non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu via di scrivere un poema sacro in lingua volgare insomma non può non essere messo in relazione anche solo implicita con il poema di Virgiliano ha ragione Giuseppe comunque a dire che effettivamente bisogna non dare per scontato tutto quanto e anzi in questo devo dire e lo dico questo non voglio non solo perché perché è qua Giuseppe Ledda naturalmente però il sale dei convegni e dei seminari spesso sta proprio nella possibilità di discutere certe volte non c'è mai discussione ci si arrocca e Giuseppe Ledda è sempre su questo richiama sempre all'ordine al testo alla bibliografia io devo anche ringraziarlo per averlo fatto recentemente su cose che poi ho approfondito e aveva ragione lui o quantomeno ero io ad aver preso le cose in maniera troppo semplice in questo caso credo che sia quindi un aspetto degno di essere espresso poi magari non qui il seminario oralmente ma insomma va espresso poi in una forma scritta con garbo e con tutte le dovute sfumature fermo restando il resto dell'idea di Sabrina anch'io cioè che la questione sia anche di quel tipo quindi rimango un po' sulla mia idea come vedi Giuseppe però però sono molto meno certo di prima e sono predisposto a studiare e a leggere anche molto altro e a mettere aggiungere sfumature bene allora riprendo io la parola se mi si sente ti ringrazio molto Paolo anche per averci confessato di aver cambiato idea su un argomento così importante per noi sia molto interessante abbiamo appunto come dicevo più di un centinaio di persone che stanno seguendo questo incontro molti sono studenti e quindi insomma Dante cambiava idea su tante cose anche i dantisti se vogliono seguire un po' il suo esempio devono anche continuamente mettersi in discussione e ritornare magari su interpretazioni che ho dato nel passato e che alla luce di riflessioni più approfondite o proprie o di altri colleghi possono essere anche riviste e modificate dunque adesso io se riesco vi leggo una domanda che è arrivata invece attraverso la mail e che ci viene rivolta da Magdalena Maria Cubas che ringraziamo molto per avercela inviata e una domanda che va rivolta alla professoressa Ardissino quindi Erminia ti chiederei di ascoltare e di rispondere a questa domanda della dottoressa Cubas dice volevo chiedere se ha avuto modo di riflettere sulla presenza e l'importanza delle litanie nel purgatorio vi è un momento litanico in particolare nel canto tredicesimo nei versi 50-51 dove gli invidiosi recitano le litanie dei santi ma sarebbe bene andare oltre dice la dottoressa Cubas ricordando che le litanie fanno parte di varie occasioni liturgiche ad esempio il Chiri e della Messa sono una struttura discorsiva anaforico enumerativa e gestuale legata alla processione e hanno inoltre una disposizione particolare spazio temporale ecco questa è diciamo la riflessione la sollecitazione che ci viene dalla dottoressa Cubas che ringraziamo e che giriamo a Erminia Ardissino prego Erminia ringrazio mi sentite ringrazio mi sentite ringrazio la la dottoressa Cubas per questa domanda che è importante molto importante le litanie sono presenti anche nell'inferno quindi Dante ci riflette io ho optato per gli eventi più significativi quindi ho lasciato da parte le preghiere lo aveva già sottolineato Giuseppe commentando insomma ho lasciato da parte veramente tante cose che si potevano dire tra cui le preghiere litaniche le formule litaniche che ricorrono spesso secondo me però è vero che meriterebbero forse proprio un'indagine uno studio ad hoc magari la dottoressa Cubas che io non conosco che ha già qualche idea mi sembra abbastanza approfondita potrebbe dare un contributo in questa direzione ecco io non ho detto tutto quel che si poteva dire sulla sulla liturgia per esempio sulle beatitudini mi sono proprio fermata a poche considerazioni ma neppure nel cartaceo anche se Giuseppe ci ha detto che probabilmente avremo tutta la disponibilità di spazio ma non credo che potrò esaurire tutti gli argomenti che si possono diciamo trattare sulla liturgia nel purgatorio poi ancora di più se si mette in congiunzione con altre formule delle altre due cantiche bene grazie erminia allora abbiamo altre due domande che credo riguardino entrambe Paolo Borsa poi chiudiamo Paolo Borsa se no lo liberiamo altrimenti naturalmente sollecita il rapporto con i poeti sempre delle riflessioni delle domande dei commenti allora una domanda ci viene da Maria Adelaide Basile che ringraziamo e che vorrebbe chiedere a Paolo Borsa un commento su un poeta che non c'è è un poeta volgare ma è un poeta religioso si tratta di Jacopone che la dottoressa Basile definisce il vero grande assente questa è la prima domanda poi invece dalla chat scusate la recupero da qui dalla chat abbiamo una domanda di Cristina Landa della dottoressa Landa che ringraziamo anche lei sulla parola fabbro e chiede se anche l'uso della parola fabbro nei confronti di Arnau nel Purgatorio 26 Purgatorio 10 possa fungere da esempio di questo parallelismo che traccia Dante tra arte poetica e figurativa ecco non so se ho letto bene se ho letto correttamente questa domanda se mi avete capito ok Paolo allora due domande una su Jacopone una sulla parola fabbro che traccia un parallelo tra arte poetica e arte figurativa volevo dire su Jacopone che non so davvero non ho materia per argomentare rispetto a questa domanda forse Dante l'unica cosa che posso dire ma dovrei rifletterci maggiormente admira un'altra linea nel riflettere sulla poesia volgare cioè una linea che è più quella della lirica ad amore che è una linea che interseca fortemente la sua attività e il suo confronto corpo a corpo con la tradizione letteraria italiana che anche nella vita nova è un confronto che va di superamento superamento anche diversi passaggi biografici o pseudobiografici sembrano ad ombrare superamenti anche nella vita nova di tipo letterario ma di una tradizione ben specifica quindi una linea di poesia d'amore una poesia quindi soltanto un filone della letteratura in volgare questa è l'unica cosa che mi viene in mente posso dire qua ma devo dovrei rifletterci di più quanto invece a Fabbro nel seminario parigino a cui alludevo poco fa è un passaggio che avevo mostrato proprio in quest'ottica ed è secondo me una domanda che coglie un punto importante perché effettivamente lì il tema del Fabbro è un tema che è legato ancora una volta alla produzione di immagini lì è il visibile parlare se non ricordo male e si tratta dunque ancora una volta il tema del plasmare il tema delle immagini che poi sono in quel caso sono immagini più vere del vero perché stanno in una mente che tutte le può comprendere tutte le può avere sempre eternamente presenti e quel tema è un tema simile a quello che viene affrontato qua e che si esprime attraverso parole tratte da un medesimo campo semantico quindi sono delle immagini da un lato e della rappresentazione di quelle immagini in forma artistica o in forma fantasmatica ma poi non fa differenza perché di fatto il tema è sempre quello della della mente che può conoscere soltanto il proprio che conosce soltanto attraverso facendosi essa stessa il proprio oggetto in questo senso ma vediamo se sono altre domande nel frattempo mi sembra di no allora io torno un attimo indietro mentre magari capiamo se ne arrivano altre per così partire da questo intervento e dalla importante segnalazione di Leila Livraghi che ci ha fatto riflettere anche sull'incontro con Stazio ma l'incontro con Stazio oltre ad attivare il rapporto con la poesia classica e con Virgilio attiva anche per la prima volta il essico della predicazione perché accanto alla riflessione sui modelli della poesia classica diversamente così diciamo manchevole e in fondo fallimentare di Virgilio che può salvare gli altri ma non se stesso e di Stazio che si converte al cristianesimo ma non è capace di scrivere una poesia cristiana e a questi due modelli diversamente manchevoli di poesia classica si aggiunge invece il modello della vera credenza portata dai nuovi predicanti ancora il lessico della novità ma sono per la prima volta unito all'essico della predicazione quindi il discorso religioso che un altro dei grandi modelli oggi è rimasto un pochino sullo sfondo ma soprattutto nel purgatorio il modello della predicazione della letteratura religiosa in tutta la sua complessità viene attivato con grande forza uno degli aspetti della predicazione medievale di cui il professor del corno è uno dei grandi maestri dei grandi esperti è anche la retorica dell'exemplum e questo era un punto che nella sua molto bello importante però si è soffermato soprattutto sugli aspetti iniziali e conclusivi in cui la penitenza viene posta nei suoi termini teorici e poi viene compiuta anche nell'attraversamento del percorso di Dante ma invece sulla penitenza delle cornici per motivi di tempo naturalmente ci ha dato meno indicazioni è molto interessante che alla pena alla sofferenza salvifica si unisca a questo sistema di riflessione sugli esempi del vizio della virtù su cui anche la professoressa Ardissino ha richiamato l'attenzione ecco vuoi chiedere allora al professor del corno se può un attimo tornare indietro e darci alcune indicazioni su come questa retorica dell'exemplum su cui ha scritto sono pagine importantissime entra e dialoga e si intreccia alla dimensione penitenziale del purgatorio da una parte come dialoga invece con i grandi modelli della letteratura predicatoria e della predicazione in fondo tra le tante cose la commedia è anche un esempio di predicazione ultimamente sulla scia degli studi di Del Corno anche Niccolò Madina che forse ci sta seguendo e se vuole intervenire ovviamente il benvenuto ha dato contributi importanti su questo prego professor Del Corno se vuole cogliere questa sollecitazione dunque prego mi sono fatto un po' ho voluto quasi evitare questo argomento dell'exemplum degli esempi del purgatorio perché da solo esigerebbe un lungo discorso ma posso aggiungere intanto quel predicanti che ha citato a proposito di Stazio è molto interessante se si pensa che all'inizio l'ordo predicatorum nel primo abbozzo della regola era l'ordo predicantium dei predicanti e quindi questa è una traccia interessante da sviluppare quanto agli esempi è chiaro che Dante usa sia la tradizione dell'exemplum retorico e soprattutto però l'exemplum dei predicatori che è un esempio pragmatico che vuole suscitare dei sentimenti e dei mutamenti nel modo di comportarsi quindi sono storie sono immagini che debbono indurre a mutare addirittura l'atteggiamento per esempio mentre i superbi sono caratterizzati dalla cervice erecta da questa postura tipica dei superbi e Dante china verso terra quasi imitando la pena dei superbi schiacciati dai massi e direi che rispetto all'uso dell'exemplum della predicazione in Dante è molto più forte più sottolineato il carattere come dire educativo intellettuale della storia esemplare che mentre induce a riflettere sulla propria vita dà anche delle istruzioni dottrinali in un certo senso perché l'esemplum del purgatorio sono in un sistema molto preciso ci sono delle preghiere iniziali ci sono dei salmi finali ci sono storie dentro una cornice di preghiere di liturgia qui Ardissino potrebbe veramente aggiungere altre cose ricorderei che quasi sicuramente Dante ha seguito e ha avuto l'influsso di Corrado di Sassonia un trattato di Corrado di Sassonia che girava che era noto sotto il nome di San Bonaventura dove c'era una specie di settenario in cui le beatitudini erano legate alle preghiere e le preghiere poi erano legate a personaggi esemplari così che l'esemplum nel caso del purgatorio dantesco non si limita soltanto alla narrazione o alla presentazione di un personaggio ma acquista forza proprio perché è dentro un sistema che si attua nello spazio della cornice si rivolge a delle anime ormai salvate ma che attraverso questa meditazione questa riflessione affrettano la loro purificazione e soprattutto si rivolge attraverso Dante attraverso il pellegrino si rivolge poi ai lettori per cui qui Maldina ha detto delle cose interessanti cioè che c'è una specie di scatola cinese degli esempi che dalla esperienza di Dante gli esempi si trasmettono poi alla meditazione del lettore poi tutta la commedia ma qua si va si va lontano tutta la commedia può essere letta come un sistema di esempio e come un sistema di memoria qui ci sono delle pagine molto belle di Lina Bolsoni su la commedia come arte della memoria la quale a sua volta si rifà a la Yeats alla Caruitere i studiosi dell'arte della memoria che proprio nel 200 prende una forza particolare anche per l'intervento di nuovo dell'ordine dominicano San Tommaso stesso è uno dei grandi autori dell'arte della memoria certamente si potrebbe raggiungere moltissimo su singoli casi tra l'altro il problema dei modelli delle fonti di questi esempi non è mai del tutto chiarito a cominciare dall'esempio di Traiano e la Vedovella ma qua mi fermo perché appunto sarebbe opportuno sentire anche qualche altra voce e comunque ripeto è un argomento è un argomento molto ampio che riguarda Dante ma tocca direi tutta la letteratura medievale riguarda tutta l'opera letteraria del 300 da Petrarca Boccaccio c'è una specie di deposito di 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 eredità collettiva di storie esemplari a cui tutti attingono e naturalmente Dante è il più è il più inafferrabile di tutti è difficilissimo se Dante non lo dice è difficile trovare la fonte da cui da cui ha preso direttamente mi fermo a questo punto grazie della questa domanda che mi ha permesso un po' di completare il mio intervento bene grazie professor Del Torno forse anche Erminia sulla scia di questa sollecitazione relativa ai canti centrali del purgatorio e quindi alle cornici anche tu ti sei soffermata maggiormente sui momenti dell'antipurgatorio e del paradiso terrestre e naturalmente anche qui non sono tante le preghiere tu hai accennato alla modalità complessa con cui interagiscono con l'esempla da una parte con la pena dall'altra con le beatitudini di cui c'è giustamente richiamato l'importanza ecco ti vorrei chiedere se puoi darci magari qualche indicazione in più dal resto tu hai scritto una serie di lavori importanti sulle preghiere di tutto il purgatorio analizzando una per una queste preghiere nella loro funzionamento anche di relazione con il contesto prego Erminia ci senti viato le singole preghiere diciamo così le preghiere le preghiere di sottaggio e mi sono accorta proprio adesso facendo questo saggio sulle stessure liturgiche che c'è un sistema di interconnessione tra appunto beatitudine preghiere e exempla che devo dire vorrei approfondire ecco a questo punto non sono in grado di andare molto in là mi rendo conto che c'è che esiste un sistema adesso quello che ha detto il professor del corno mi aiuta anche a confermarlo un sistema che però diciamo andrebbe studiato e forse qualcuno magari l'ha anche studiato io al momento non so dire molto di più ecco cioè la beatitudine è legata non solo al superamento del vizio ma anche proprio all'ingenerarsi di una predisposizione virtuosa e a una meditazione sul per esempio sul dono dello Spirito Santo questo è stato studiato già abbastanza bene però mi pare che anche considerando le singole beatitudini che è la parte che ho saltato della relazione si possono ancora vedere delle interconnessioni che spiegano persino la scelta delle beatitudini proprio alla luce delle preghiere però non vorrei andare molto oltre proprio per questa consapevolezza che necessitano di un studio almeno da parte mia che non ho ancora fatto certo ti ringraziamo molto Erminia per questa naturalmente il seminario orale si presta appunto a presentare dei risultati ancora parziali delle ricerche a essere anzi occasione per cogliere spunti e sollecitazioni che vanno verso ulteriori approfondimenti quindi aspettiamo naturalmente anche per questi seminari sulle cantiche della commedia aspettiamo gli interventi che saranno pubblicati nei successivi volumi che sempre usciranno in questa sede quindi saranno sicuramente i contributi importanti che resteranno nel dibattito e ovviamente saranno offerti in forma più meditata più approfondita e più completa come si fa nella comunicazione scritta allora io speravo sino all'ultimo che arrivasse qualche domanda per Guglielmo perché io come Guglielmo si immagina insomma avrei delle osservazioni un pochino così diverse da quelle che lui ha fatto però ne sono arrivate quindi per non lasciarlo inoperoso e dargli quindi la possibilità di precisare magari meglio alcuni punti del suo evento ricchissimo interessantissimo come è il suo volume fondamentale lo solleciterei sui primi due sogni ecco di cui una lettura parzialmente negativa che poi va a perfezionarsi in una linea di progressione anche dell'identità del sognatore questo è indubitabile che il sognatore migliora nel frattempo ecco però così che il testo poi ci autorizzi a cogliere nei sogni questi elementi io ho qualche dubbio d'altra parte il fatto che appunto la mente umana si apra al mattino ai sogni e diventi quasi divina detto la prima volta non c'è bisogno di ripeterlo la seconda volta e quindi diventa davvero un pochino così non necessario richiedere che venga riaffermato nel secondo e nel terzo sogno una volta che già era stato detto e già era stato detto addirittura anche nel nel canto ventisiesimo dell'inferno ma in un contesto diverso è stato ribadito all'inizio del sistema per cui quello è una norma che vale anche per i sogni successivi dunque legare il secondo sogno non a un'anticipazione di quello che verrà ma agli stracichi di quello che è stato prima cioè la serata passata nella cornice degli acidiosi ecco mi sembra contraddire proprio la definizione che è stata data per il primo sogno ma che è stata data come valida per tutti i sogni non che poi viene smentita dal secondo sogno ecco quindi da una parte questo mi sembra che getti un po' una così qualche dubbio da parte mia sulla sua interpretazione del secondo sogno quanto riguarda il primo invece anche qui ecco faccio un po' di fatica a vedere tutti questi elementi di negatività negli aspetti del fuoco dato che si tratta poi di un fuoco purificatore che sarà poi appunto l'annuncio del fuoco purgatorio Dante sta entrando nel purgatorio il purgatorio era un aggettivo che per secoli si accompagnava al nome al sostantivo fuoco fuoco purgatorio poi si è diciamo diventato un sostantivo ma vuol dire sempre fuoco purgatorio quindi il temporale fuoco verrà definito l'ultima corrice un fuoco ma tutto il purgatorio è un fuoco dunque questa lettura così negativa e amorosa in senso limitativamente negativo del fuoco verso cui viene rapito Ganimede eccetera mi sembra che colga solo una parte della verità ma naturalmente anche questi sono temi su cui sarebbe tanto da discutere te li offro per darti la possibilità così di precisare di integrare il tuo ragionamento sì mi rendo conto e confido che non possa essere addebitato queste idee a impulsi miei depressivi come dire negativi allora le tue obiezioni sono giustissime e visto anche come dire che è invitato un pochino magari alcune idee rispetto al primo sogno le ho anche un po' in realtà modificate allora parto magari però dal secondo cercherò di essere sinteticissimo anche vista l'ora il mio assunto comunque è che per l'appunto cioè ci siano una serie di come dicevo di elementi come dire circumonirici che servono un pochino a come dire a dare proprio un tono una nota al sogno e non so cosa dire se non altro che io continuo a trovare riduttivo in realtà l'allettamento della sirena come semplicemente i tre le tre cornici a me come dire l'impressione che veramente i sogni come dire in base al principio della moltiplicità dei significati possano anche avere più significati e la figura per l'appunto della lo stesso canto della sirena con le sue parole il tema del vagare richiama secondo me alcuni elementi per l'appunto di una tipologia onirica che è quella appunto del visum eccetera e quindi a me sembra quasi che lì Dante in un certo senso abbia lavorato sui due sui due livelli per il come dire lo vedo veramente come un percorso amoroso in un certo senso mi rendo conto di non avere molte più argomentazioni di quelle che ho usato adesso o comunque ho usato nel libro è più se vogliamo una suggestione di 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 lessico di terminologia che si deposita su questi sogni e mi sembra in un certo senso quasi sollecitare il lettore evidentemente probabilmente non sono un lettore medievale e mi sono fatto sollecitare male diciamo così per quanto riguarda il primo mi rendo conto che effettivamente è l'interpretazione più 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 anomala se vogliamo perché comunque il canto della sirena il tema la connessione con la curiositas e quindi che comunque cosa diversa da da come dire i tre peccati puniti nelle cornici superiori è già stato detto da voci ben superiori alla mia tra l'altro presenti presenti anche qua gli autori di un bellissimo assaggio in merito che mi ha orientato effettivamente il si citava oggi anche nel canto insomma nell'intervento di Paolo più volte ad esempio l'aquila come l'uccello della poesia ovviamente è l'aquila che si affissa lo sguardo che vola e quindi l'idea Omero stesso è l'aquila eccetera eccetera e quindi può sembrare può essere semplicemente il tema dell'eccellenza io semplicemente rilevo che ci sono una forma comune una sequenza un sistema di di elementi che richiamano invece l'idea proprio del fuoco come desiderio in un certo senso e che in un certo senso è appunto l'ambizione alla spinta è vero per l'appunto alla fine ci sarà un altro fuoco però come dire l'idea è quella che in realtà c'è da fare prima un percorso molto più lungo molto più faticoso l'insistenza per l'appunto del del progatorio sulla metafora ornitologica presente per l'appunto nel paradiso terrestre nelle parole di Beatrice semplicemente mi crea questa suggestione come ripeto non è la mia impressione è che Dante lavori semplicemente per per forme di suggestione con idee accessorie anche semplicemente su questi sogni e che semplicemente venga veicolata l'idea di una spinta verso l'alto per l'appunto con strumenti se vogliamo ancora non pienamente non pienamente posseduti quindi semplicemente che è il segno dell'inizio del viaggio come dicevo prima ma di un viaggio che è ancora che è ancora molto lungo tant'è che comunque la mia impressione è che nel sogno della sirena venga in un certo senso quasi si sia di fronte a una sorta di liturgia impersonale in un certo senso a livello profondo semplicemente mi rendo conto di non essere in grado di dare risposte più soddisfacenti e comprendo i dubbi tuoi e non solo tuoi su alcune mie impressioni di questi sogni comunque ti ringrazio davvero grazie grazie tantissimo per questa risposta e vedete insomma abbiamo tanti tanti giovani che si stanno seguendo studenti laureandi dottorandi naturalmente la ricerca soprattutto in ambito dantesco è una ricerca fatta di riflessioni di approfondimenti di domande anche di dubbi e anche di confronto è sempre sereno leale rispettoso con chi ha delle posizioni diverse perché tutti insieme cerchiamo di capire poi un testo complesso difficile ricco ognuno cerca di capirlo meglio che può si incontra dialoga con i colleghi e insieme magari a volte si trova un punto di così di accordo a volte invece si continuano ad avere dei punti di vista diversi ma l'importante è continuare a fare domande a cercare di dare risposte nel modo più chiaro più corretto possibile e più rispettoso anche delle opinioni delle posizioni degli altri c'è un'ultima domanda in questi due minuti che abbiamo a questa posizione che ci viene da Francesco Cavallo che credo sia uno studente che forse dovrebbe sollecitare il professor del corno che ha citato un passo di Purgatorio IV che è quello della nave che riguardano l'ascesa nel paradiso nel Purgatorio scusate questa montagna dice e se è difficile all'inizio poi diventa molto più facile leggere quindi dice Virgilio nel quarto canto a Dante però quando ella cioè la montagna ti parrà soave tanto che su andarti fia leggero come seconda giù andar per nave allora sarai al fin d'esto sentiero e quindi questa immagine della nave come la nave che va secondo corrente quindi va facilmente nella sua direzione senza nessuno sforzo senza nessuna fatica particolare ecco lo studente credo Francesco Cavallo ci pone questa domanda l'immagine della nave come figura allegorica della penitenza può avere una relazione in opposizione alla nave di Ulisse nella cantica precedente e poi aggiunge si tratta di una semplice coincidenza sempre a proposito dell'allegoria della nave o c'è un eco al canto di Ulisse che già si trova chiaramente nel secondo sogno ma io aggiungerei si trova citata ripetutamente nei primi canti del purgatorio alla fine del primo canto del purgatorio poi il vasello snelletto e leggero dell'angelo che va avanti soltanto con la forza delle ali allude chiaramente invece al folle volo di Ulisse che dei remi pensa di fare vanamente delle ali e quindi sollecita mi sembra interessante non ci ho mai pensato a questo rapporto però può essere d'altra parte il professor Del Corno questa della nave è forse anche un'immagine tradizionale che viene da un altro bacino ecoculturale però può essere interessante riflettere a come si intreccia con il viaggio di Ulisse che è stato riecheggiato variamente prego se ci vuole dire qualcosa in proposito spero che mi sentiate la sentiamo anche adesso prego ecco benissimo prego intanto ringrazio questo come si chiama caballo questo studente per questa prospettiva ampliata sul motivo della nave perché in effetti sulla nave c'è una quantità di simbolismi e questo della nave della penitenza è uno tra i tanti che mi è sembrato particolarmente interessante perché queste riflessioni sulla forma della nave che è stretta all'inizio larga in mezzo poi si restringe ancora perché quando si arriva alla vecchiaia c'è la tentazione di abbandonare della penitenza ma qui sono delle riflessioni più particolari questa questa immagine è molto calzante con un discorso cioè la difficoltà di entrare nella penitenza che poi pian piano diventa quasi un abito e addirittura diventa una cosa leggera è vero che trova un parallelo che trova degli antecedenti in Seneca in San Tommaso come i commentatori hanno indicato ma è una in Aristotele e in San Tommaso è un ragionamento come dire astratto che qui in questi predicatori ne ho citato uno viene legato proprio a questo figura della nave e mi ha sorpreso che l'immagine usata da Dante nei commenti non trovi quasi spiegazione sembra ovvio che una nave che scende un fiume o che naviga in un mare tranquillo sia un l'immagine di qualcosa di agevole e di piacevole mentre invece c'è questa questa serie di modelli particolari dei predicatori che danno più rilievo a questa immagine dantesca la la domanda di Cavallo mi porta mi costringe un po' a rivedere anche l'ampiezza di questa immagine perché in effetti il vasello snelletto e leggero è anche quella è una nave della penitenza in fondo perché porta le anime nel luogo dove compiranno la loro purificazione e in realtà poi bisognerebbe allargare il discorso a tutta la metafora nautica in Dante che quindi si arriva fatalmente alla navigazione di Ulisse che certamente è il contrario della rotta seguita dalla dalla dall'anabicella dell'angelo della seconda cantica e ci devo pensare che così come anche dovrò pensare un po' meglio e dire qualcosa di più sul sistema degli esempi che ho un po' troppo castigato per paura di ripetere cose che ho già detto bene allora ringrazio moltissimo il professor del Corono anche per questa risposta ringrazio davvero tutti quanti i relatori per le bellissime relazioni per la discussione molto vivace a cui si sono prestati con le risposte sempre che hanno ampliato e approfondito il discorso in modo interessante ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e quelli in particolare che hanno voluto poi solicitarci con domande osservazioni e interventi e a questo punto ringrazio poi ancora una volta moltissimo il personale della società dantesca italiana i tecnici interni alla società e quelli che sono stati coinvolti in questa impresa che nonostante le inevitabili difficoltà mi sembra sia venuta molto bene abbia realizzato proprio nella sua piena vivacità quello che è il clima dei nostri seminari dei nostri workshop che sono dei momenti di riflessione su alcuni punti fondamentali delle opere di Dante in cui si presentano nuove prospettive di analisi e di ricerca e li si discute insieme in questo spirito di leale collaborazione nella ricerca della comprensione sempre migliore del testo di Dante direi che quindi possiamo archiviare con grande soddisfazione riporgo nuovamente il saluto di tutta la società dantesca in particolare del presidente professor Marcello Cicuto e vi do appuntamento speriamo in forma diciamo dal vivo nella nostra meravigliosa sala del palagio dell'arte della lana però ormai che ci siamo lanciati abbiamo visto le grandi potenzialità di questo strumento di comunicazione magari in una forma mista in cui si unisce il piacere di incontrarci nella sala di Firenze con quello di coinvolgere tanti altri amici e colleghi sparsi per il mondo e averli presenti insieme a noi e magari discutere insieme a loro ascoltare le loro domande osservazioni e dialogare quindi tutti insieme quindi appuntamento al prossimo incontro che dovrebbe essere il 3 dicembre la seconda parte è sempre sul purgatorio il titolo sarà temi episodi personaggi il 3 dicembre del 2020 al palaggio dell'arte della lana di Firenze ma forse anche online grazie a tutti e alla prossima occasione